Bene, bentornati a tutti. Questa è la seconda lezione del corso di preparazione alla gara interregionale dei ventunesimi campionati italiani di astronomia. La lezione di oggi riguarda l'argomento magnitudini stellari e telescopi astronomici. Avevate, come al solito, una decina di problemi che vi erano stati assegnati e che avete cercato di risolvere a casa. Oggi cerchiamo di ripercorrere la risoluzione dei problemi cercando di capire quali sono i punti critici, cercando di sottolineare i possibili errori che possono essere fatti. Naturalmente se avete delle domande, se avete delle perplessità o delle curiosità anche, interrompetemi pure in qualunque momento e cercherò di rispondervi se mi è possibile. Allora, cominciamo dalla lista dei problemi che come vedete erano 11, erano un pochino più di più rispetto ai 10 dati da volta precedente perché secondo me i procedimenti erano in alcuni casi un po' meno complessi. Però ugualmente l'argomento magnitudini e telescopi è un argomento che probabilmente avrete imparato ex novo, che avete dovuto studiare sulle dispense. Tra l'altro io ho prodotto recentemente in questa settimana un video sui logaritmi, dovreste averlo visto tutti e quindi sull'applicazione alle magnitudini. I logaritmi dovreste conoscerli tutti perché siete master, quindi siete già grandi, ma le magnitudini non so adattamente quanto abbiate dimestichezza con questa scala. I problemi appunto riguardavano soprattutto le magnitudini apparenti e assolute e le relazioni che hanno con altri parametri caratteristici come per esempio la distanza dal punto di osservazione. Altri problemi invece riguardavano i moti propri, quindi il movimento delle stelle rispetto alla Terra, quindi come appaiono muoversi per effetto del moto combinato del loro moto intorno al centro galattico e del nostro. Poi vabbè, c'erano diversi problemi che permettevano di collegare la magnitudine con la nozione di luminosità, quindi con i parametri fisici della stella come il suo raggio e la sua temperatura assoluta della sua fotosfera. E poi c'erano alcuni problemi che riguardano i telescopi, quindi le relazioni che intercorrono fra il potere risolutivo, l'apertura del telescopio, la focale, l'apertura numerica e l'ingrandimento. Parametri importanti quando si vanno a varie osservazioni di tipo visuale, specialmente con gli oculari. Va bene, questo è più o meno la sostanza, avevate questi unici problemi, vi ho passato anche come al solito la tabella di dati numerici, copia esatta di quella che vi troverete durante la gara, dalla quale potrete attingere informazioni numeriche, così non dobbiamo ricordare a memoria di tutti questi parametri, e riprendiamo quindi le solite raccomandazioni, cercherò di percorrere un pochino più rapidamente del solito, perché già dovreste conoscerle, ma vi prego sempre di tenerle a mente. Allora, quello che non mi stancherò mai di ripetere è cercate di non applicare le formule in maniera pedissequa, cioè non dire, ah c'è una formula che mi dà questo risultato, la applico, calma, ragionate un attimo, cercate di capire se è veramente quello che vi serve e se è veramente quello che vi permette di risolvere il problema nel caso in esame. Se non ce l'avete, cercate di ricavarlo usando dei principi primi, dei principi di quali siete sicuri. Uno di questi potrebbe essere, per esempio, sapere che la densità, il flusso luminoso, quindi il flusso luminoso per unità di area proveniente da una stella, decresce con l'inverso del quadrato della distanza. Questo è un fatto al quale sicuramente appigliarsi per cercare di sviluppare il problema. Oppure la formula di Stefan Boltzmann, che fornisce la luminosità per unità di area di un corpo nero, come può essere con ottima approssimazione alla sopraficia di una stella, in funzione della sua temperatura assoluta. Come al solito, cercate di lavorare con l'algebra il più possibile. Voi avete delle relazioni algebriche che collegano le diverse grandezze che entrano in gioco nel problema, cercate di combinarle in modo tale da ritardare il più possibile l'inserimento delle quantità numeriche, per i motivi che già vi spiegavo l'altro giorno. Più tardi inserite le quantità numeriche, più tardi cominciate a applicare le approssimazioni, gli arrotondamenti, che sono inevitabili quando si svolgono i calcoli. Soprattutto si rischia meno di fare errori durante le sostituzioni, si rischia di fare meno errori quando si lavora con le unità di misura. lavorare per via letterale è sicuramente molto più semplice e più agile e generalmente è meno fonte di errori che non lavorare con quantità numeriche. Allora, è un'affermazione un po' drastica quella che ho fatto la volta scorsa e che ho fatto adesso. In realtà non è del tutto vero. In alcuni casi potrebbe essere un pochino più conveniente procedere passo passo, ma questo conviene soltanto se l'algebra è veramente semplice. Se diversi passaggi sono delle semplici moltiplicazioni, per esempio i due fattori, allora, vabbè, in questo caso si può anche procedere direttamente al calcolo numerico, facciamo attenzione alle cifre significative. Se fate attenzione alle cifre significative non introducete degli arrotondamenti che poi vanno a avere un'importanza sul risultato finale. Stiamo restando che la cosa importante ai fini della valutazione è il numero di cifre significative più che il risultato finale. Quindi soprattutto noi poniamo molto accento su questo fatto delle cifre significative, ma tenete presente che prima ancora di questo, quindi a monte di questo aspetto, c'è l'aspetto di risoluzione. Quindi cercate di impostare correttamente il problema, di scrivere, fare mente locale sulle relazioni di cui disponete, cercate di mettere relazioni l'una all'altra e poi il problema delle cifre significative si pone alla fine. Ecco, non dico che non faccio attenzione, ma è l'ultimo dei passi a cui fare caso. Ecco, in alcuni casi appunto i calcoli numerici potrebbero essere più semplici del lavoro algebrico e ne vedremo alcuni esempi nel corso di questi problemi. In questo caso, se cercate di lavorare con l'algebra per ottenere la formula che vi fornisce il risultato, allora, attenzione, mi raccomando, lavorate utilizzando le unità di misura, quindi controllate che le unità di misura siano consistenti, controllate, fate l'analisi dimensionale per verificare che se ottenete, se il problema vi chiede una luminosità, non può venire fuori misurata in metri quadrati, ma deve venire misurata in watt al metro quadrato, per esempio, quindi ho un'unità di misura consistente con questo. Mi raccomando, utilizzate la notazione scientifica dei numeri e cercate di utilizzare la calcolatrice in maniera più intelligente possibile, quindi non per fare tutti i calcoli possibili e immaginabili, cercate di semplificarli su carta il più possibile prima di far intervenire la calcolatrice. Anche questo sappiate che può essere una fonte d'errore se la calcolatrice non viene usata correttamente. E infine, la plausibilità. Mi raccomando, cercate di chiedervi, ma l'isurato che ottengo è plausibile? Ottengo una magnitudine della luna piena che è più 10, ma sarà mai possibile? Voi sapete che la scala delle magnitudini è visibile a occhio nudo fino a 6. La luna piena la vediamo decisamente a occhio nudo, quindi sicuramente la sua magnitudine non può avere valori così positivi. Anzi, dovete sapere che la magnitudine della luna piena è fortemente negativa, si aggira intorno a meno 12. Una stella non può distrarre dal Sole un decimillesimo di unità astronomica, no? Chiaramente orbiterebbe direttamente all'interno del Sistema Solare, se non addirittura all'interno del Sole, ovvero orbiterebbe, quindi è chiaramente un risultato assurdo. Un pianeta interno non può trovarsi in opposizione, un pianeta interno o in congiunzione superiore o in congiunzione inferiore. Questa è una cosa che riguarderà soprattutto i problemi che riguardano le magnitudini dei pianeti, non ce ne sono nell'elenco che avevate, ma potrebbe capitare. Controllate sempre gli ordini di grandezza, perché errori come questi tendono a capitare con una certa frequenza. Il primo problema vi chiedeva semplicemente di riempire una tabella, vi venivano dati alcuni dati, per cui la magnitudine apparente di alcuni quattro stelle, pi greco che è la parallasse, d è la distanza espressa in parse che è anni luce, ed m grande, m maiuscola la magnitudine assoluta. Ora voi se avete visto, o già lo sapevate, i video sui logaritmi e magnitudini o comunque avete visti sulle dispense che arrivate da studiare, sapete bene quindi che la magnitudine apparente, che è quella che viene osservata da distanza da terra, diciamo, e la magnitudine assoluta che viene presa a una distanza standard di 10 parsec e la sua distanza dall'osservatore D misurata in parsec, attenzione, è la formula di Pogson, che vi dice che la differenza tra la magnitudine apparente meno la magnitudine assoluta è data 5 volte il logaritmo della distanza in parsec, meno 5 ovviamente, questa formula vale soltanto nell'ipotesi in cui non ci sia assorbimento del mezzo intestellare, quindi non ci siano per esempio nubi di polvere che abbattono la magnitudine apparente, altrimenti la formula non vale più. Questa formula si basa unicamente, è ricavata unicamente, sull'ipotesi che il flusso luminoso decada con l'inverso del quadrato di D. Va bene, avendo questa formula in mano noi possiamo fare tutto, quindi possiamo metterci a riempire, a calcolare i valori che ci mancavano e quindi riempire la tabella. Tenete presente che il logaritmo va sempre preso, inteso in base 10, stiamo sempre parlando di logaritmo adicimale, quindi quando premete sulla calcolatrice il tasto del logaritmo, premete il tasto log, non ln, perché altrimenti farete il logaritmo naturale e sbaglierete. Capita, capita anche ai più bravi, capita ai più esperti, capita perfino a me che non sono poi così esperto, quindi sappiatelo. Nessuno in noi è immune all'errore. Ma prima c'è un altro ingrediente da considerare, cioè consideriamo qual è la relazione fra la parallasse annua e la distanza della stella. Che cos'è la parallasse stellare? Beh, voi sapete che quando voi osservate un oggetto e vi muovete rispetto ad esso, gli oggetti più vicini appaiono a muoversi più rapidamente, mentre gli oggetti più lontani appaiono sostanzialmente fermi. Qui vedete appunto una foto del Resegone in inverno e vedete l'osservatore che ha parietato tra dei due occhi si sta spostando lateralmente, la casa che c'è in primo piano si proietta sullo sfondo e si proietta sullo sfondo formando un angolo apparente di spostamento che è inversamente proporzionale alla distanza. Questo, se conosciamo la base geodetica di spostamento, quindi di quanti passi ci siamo spostati o di quanti... di solito ci sono tiodolite per fare queste misure sulla Terra, strumenti che usano i geodeti, e si misura l'angolo, al vertice, che è il vertice della casa, è possibile misurare la distanza della casa. Ovviamente più lontana appare un oggetto, più piccolo sarà alfa. Questa cosa applicata al cielo, diciamo alle stelle, gli oggetti celesti, è una triangolazione estrema, la base geodetica B e la distanza Terra-Sole, quindi l'unità astronomica. Naturalmente questa misura, sembra facile da fare, in realtà è molto difficile, storicamente è uscita soltanto per la prima volta a un grande fisico-astronomo, che era Friedrich Bessel, che nella prima metà dell'Ottocento lui uscì per la prima volta a misurare la parallasse della stella 61 Cinghi. E la misura è molto più difficile di quello che sembra, perché non basta puntare il telescopio su una stella, tornare dopo sei mesi, ripuntare il telescopio alla stessa stella e misurare l'angolo di cui dovete riposizionare il telescopio. Non è così, perché in realtà queste parallassi sono sempre angoli molto piccoli, le più vicine hanno una parallasse dell'ordine di alcuni decimi di secondo d'arco, se avete idea di cos'è un secondo d'arco, che a 3600 sia parte di un grado, ma sul goniometro già sembra piccola, tenete conto che ci sono gli effetti molto maggiori di alcuni ordini di grandezza, per esempio la riflazione atmosferica. Se la stella non viene osservata esattamente nella stessa direzione rispetto all'atmosfera rispetto alla verticale, o è cambiata la temperatura, o è cambiata la densità dell'aria, la riflazione è diversa e vi farà comparire uno spostamento apparente della stella che in realtà non c'entra niente con la parallasse. Poi c'è l'effetto dell'aberrazione della luce, noi non ci muoviamo rispetto a questa stella e ci muoviamo anche rispetto alla luce che essa emette, quindi questo determina un altro spostamento dell'inclinazione del telescopio che va a influenzare la misura. E poi c'è il moto proprio, questo è un effetto importante, la stella si muove, noi ci muoviamo rispetto al centro della galassia, noi vediamo tutte le stelle in realtà muoversi un po' ogni anno e questo spostamento, sulla volta celeste, si misura in diversi secondi d'arco all'anno, quindi è decisamente maggiore rispetto all'effetto di parallasse. Tutto questo per dire che, insomma, se c'è voluto tanto per fare una misura, vuol dire che era piuttosto difficile. Comunque, Bessel ci riuscì e poi, insomma, altri astronomi ci riuscirono, adesso noi grazie alle sonde, scusate, ai telescopi in orbita, tra cui Gaia adesso che sta facendo un lavoro veramente eccezionale, in passato era i Parcos, adesso Gaia, stanno misurando tantissime parallassi, e misurare la parallasse annua, che se uno riesce a ottenerla, beh, è un'unità di misura estremamente comoda, perché facendo il reciproco della parallasse si ottiene la distanza della stella misurata in un'unità di misura apposita, per definizione il Parsec, Parsec che sta per parallasse secondo, cioè la distanza sotto cui il semiasse maggiore dell'orbita terrestre viene visto, quindi l'angolo sotto cui segnasse maggiore dell'orbita terrestre viene visto dalla distanza della stella. Per ottenere, se voi avete la misura della parallasse in secondi d'arco, basta fare il reciproco e avete automaticamente la misura in Parsec. Sapete a questo punto che il Parsec equivale a 3,26 anni luce, il numero esatto è in tabella, comunque, e questo numero un Parsec equivale a circa esattamente 206.265 unità astronomiche. Cioè, in altre parole, quel 206264.8 è esattamente il fattore di conversione fra arco secondi e radianti. Quindi un radiante contiene 206264,8 secondi d'arco e quindi questo è motivo per cui compare questo fattore di conversione all'interno di questa equivalenza. Va bene, mi sono un po' dilungato sull'aspetto del Parsec e della parallasse, passiamo quindi a metterla in pratica. Qui vedete che dobbiamo misurare la distanza della prima stella in esame che è alfa del centauro, la stella più vicina a noi, a parte il sole ovviamente, e la parallasse misura circa 0,747 arco secondi. Bene, a questo punto non dobbiamo fare altro che fare il reciproco per ottenere la distanza in Parsec che è 1.34 Barsec e se teniamo conto che questo è uguale, ogni Parsec è 3.26 anni luce, basta moltiplicare per 3.26 il risultato, otteniamo 4.36 anni luce e già stiamo cominciando a riempire la nostra tabella. La successiva è applicare la formula di Poxton che avremo opportunamente invertito per mettere in evidenza la magnitudine assoluta e solituendo i numeri che abbiamo e la distanza, il Parsec che abbiamo trovato, otteniamo una magnitudine assoluta di 4.35. Questa è la magnitudine assoluta di alfa del centauro che è un valore assolutamente ragionevole perché alfa del centauro è una stella piuttosto simile al sole e qui stiamo riferendo soltanto alla prima componente, alfa del centauro A, perché sapete che alfa del centauro è una stella doppia. La prima è leggermente più grande del sole e la seconda è leggermente più piccola del sole. Alfa del centauro A è la più grande e infatti è quella che è un pochino più brillante del sole. Ovviamente insieme andrebbero prese e combinate. Essendo l'alfa del centauro A più grande del sole, quindi un po' più luminosa, la sua magnitudine è numericamente inferiore. Vi ricordo che la magnitudine assoluta del sole è 4,83. Anche questo dato è presente in tabella. Quindi, il solito discorso, plausibilità del risultato. Se avessimo ottenuto che alfa del centauro A fosse venuto fuori 16, chiaramente qualcosa di sbagliato ci sarebbe stato. Quindi, se sapete alcune particolarità delle stelle, applicatele, come in questo caso. Vediamo invece alfa del cane maggiore, che è meglio nata come Sirio, vedete in questa indicata dalla frecciolina, di cui sappiamo che la fuoristanza è i 2,63 parsec che equivalgono a 8,57 anni luce. Qui dobbiamo trovare la parallasse, dobbiamo prendere la distanza in parsec e farne il reciproco e otteniamo 0,38 arcosecondi. Anche qui, utilizzando la formula di Poisson invertita, otteniamo come risultato che la magnitudine assoluta di Sirio è 1,47. All'incirca, anche qui, sappiamo che Sirio è una stella più luminosa del sole, quindi numericamente la sua magnitudine assoluta dovrà essere inferiore. Ricordo che la magnitudine assoluta non dipende dalla distanza, perché è presa da una distanza fissa, ma è un indicatore della luminosità intrinseca della stella. Perciò, 1,47 è un numero inferiore a 4,35, 4,83, che è quella del sole, che ci dice che Sirio è più luminosa del sole, cosa che torna bene con quello che già sapevamo. 61 Cigni A. Ecco, 61 Cigni è appunto la prima stella nella quale fu misurata la parallasse, quindi storicamente molto importante. Anche questa è una stella in sistema multiplo, quindi noi prendiamo soltanto una delle componenti, la più luminosa, e in questo caso sappiamo la distanza e anni luce, convertiamola in parsec e facendo reciproco ci rimane la parallasse annua. Vedete che sono numeri sempre molto piccoli, inferiori all'arco secondo. Se pensate, non so, che ci sono delle stelle il cui moto proprio, quindi il cui spostamento nella fullavolta celeste, dovuto proprio al moto relativo del sole e della stella, può arrivare fino a 10 secondi d'arco, come la stella di Barnard, ma anche 61 Cigni A mi pare che si muovere diversi secondi d'arco all'anno, capite che lo spostamento, il moto proprio è di alcuni ordini di grandezza, tipicamente maggiore della parallasse. È vero che più andate lontano, più il moto proprio sembra diminuire, perché all'aumentare della distanza la velocità apparente della stella diminuisce, ma anche la parallasse diminuisce, quindi trambi i fattori diventano più, trambi i numeri diventano più difficili da misurare. Allora, andiamo avanti, proseguiamo con sempre il calco della magnitudine assoluta, ecco qui in questo caso abbiamo una magnitudine assoluta di 7.49 che la rende sicuramente meno luminosa del nostro sole. Alfa aquile, meglio nota come Altair, e di questa conosciamo la parallasse, facciamo il reciproco, otteniamo la distanza in parse, che moltiplichiamo per 3.26 e otteniamo la distanza in anni luce, e adesso ricaviamo la magnitudine apparente, magnitudine apparente nella quale dobbiamo utilizzare la formula di Pochson e mettendo in evidenza la magnitudine m piccolo, facendo i conti otteniamo 0.77. Tenete conto che in tutti questi casi abbiamo fatto tutto il lavoro, tutti i calcoli, applicando le regole sulle cifre significative e sulle cifre decimali. Qui abbiamo a che fare con dei, una somma, sottrazione di numeri con un numero di cifre decimali diverse, dobbiamo fare in modo di prendere il numero che ha meno cifre decimali e arrotondare al numero di cifre decimali del numero che ne ha meno, quindi sempre arrotondare al numero del quale conosciamo, che è il numero che conosciamo con la minore approssimazione, perché ovviamente non possiamo, è inutile inventarsi una precisione se uno dei numeri è noto per esempio ai centesimi e l'altro è noto invece ai milionesimi, una precisione dettata dal numero meno preciso. Ricordatevi che appunto facendo somma e sottrazioni comandano le cifre decimali, facendo moltiplicazioni, divisioni, radici e tutto il resto comandano invece il numero di cifre significative. Allora, quindi abbiamo scritto tutti i numeri, possiamo riempire la tabella e otteniamo quindi il nostro risultato finale. Su Alpha Centauri, che vi ricordo essere in realtà non un sistema doppio ma un sistema triplo, perché in realtà ci c'è A, B e anche Proxima Centauri invece che è una nana rossa, si chiama Proxima perché in questo momento del moto orbitale complesso che si verifica fra le due componenti di Alpha Centauri e Proxima è la più vicina, di questa stella noi siamo in grado anche di misurare il moto apparente nella volta celeste in seguito a uno spostamento, ma non della stella, uno spostamento nel punto dell'osservatore. In particolare la sonda New Horizons, che è stata la prima sonda a fotografare Plutone e ha fatto un flyby nel 2015 e ora sta ancora viaggiando verso l'esterno nel sistema solare, quindi verso la gube di Hort, ha fatto una fotografia di Proxima Centauri e vedete che è in una posizione diversa da Terra. E questo è semplicemente incredibile perché immaginatevi se questo movimento della sonda continuasse, e se continuasse, proprio vedremmo le stelle spostarsi come in realtà sono in tre dimensioni. Questo secondo me è un risultato storico, cominciamo a vedere proprio lo spostamento delle stelle in seguito allo spostamento della fotocamera che le riprende. Questo era un piccolo spunto di riflessione, questo vi lascio riflettere un attimo, quale è la stella più vicina? Noi lo sapete già, è appunto Alfa del Centauro, un po' prossima, se vogliamo essere precisi. Quella più luminosa vista da Terra qual è? Tra quelle elencate. Sì, io esattamente, lo si capisce dal fatto che è numericamente minore, certamente. Invece, qual è quella più luminosa in assoluto? Sempre Siri, giustamente, perché anche lei, vedete, se andate a vedere la magnitudine assoluta, vedete che è quella che numericamente è il valore minore. Ricordatevi che la scala delle magnitudini è invertita, numeri più piccoli o più negativi vogliono dire luminosità maggiori, e viceversa. Ci sono domande sul primo problema? Ah, mi si chiede come si fa a ricavare l'angolo della parallasse. È sufficiente che tu prenda la distanza imparsa e che fa il reciproco. Quella pi greco e d sono esattamente l'uno al reciproco dell'altro. Sì? Sì. Allora, mi si chiede quando contare le cifre significative e quando le cifre decimali. Ripeto sempre la domanda, perché dal vostro audio non si sente nella registrazione. Allora, quando si ha a che fare con delle somme di numeri decimali, dovete guardare le cifre decimali. Somme e sottrazioni, quindi una somma algebrica, dovete guardare le cifre decimali. Vedete, in questo caso, adesso, c'è quel 2,21, l'ultimo caso che ho considerato. Poi c'è un meno 5, quel meno 5 in realtà è una costante. Vi ricordo che le costanti non contano, non entrano nel cobuto delle cifre significative, significative, perché quel 5 vuol dire esattamente 5. 5,0000. Poi ci sarà quel 5 logaritmo di 5,15, che a me da lì di essere un numero irrazionale, quindi di avere una quantità di cifre decimali infinita. Insomma, la calcolatrice ne restituirà comunque un numero piuttosto elevato. Dovendo fare la somma di un numero 2,21 e un numero che ha infinite cifre decimali, cosa fate? Quindi vi limitate la precisione al numero che, all'addendo, al termine che contiene la precisione inferiore. Spettate, non potete inventarvi le cifre del 2,21, non sapete quali sono quelle altre. Perciò, facendo la somma, dovete arrotondare ai centesimi. Dovete arrotondare ai centesimi perché, appunto, il fattore dominante che determina la precisione del calcolo è il primo. Il secondo non è in grado di farlo, il 5, dicevamo, non è assolutamente rilevante. Invece, quando si fanno moltiplicazioni, divisioni, estrazione di radice, diciamo, calco di logaritmo, oppure seno e coseno, tutte le operazioni che non comportano somme algebriche, allora bisogna guardare le cifre significative. per ragionamenti del tutto analogo che si può fare, un ragionamento analogo che si può fare sulle cifre decimali. In quel caso, non conta più la posizione della virgola del punto decimale, a seconda di quello che utilizzate. Perché sapete che facendo una moltiplicazione, la posizione del punto decimale non conta. si fa una moltiplicazione in colonna, ricordo che è una cosa che mi piaceva molto quando ero elementare, la maestra aveva detto, beh, quando dovete moltiplicare dei numeri decimali, la virgola non la guardate nemmeno. Contate le posizioni decimali e le riportate alla fine nel risultato. Quindi non sono le cifre decimali in sé, sono le cifre che voi conoscete, qualunque posizione essa occupino. Perché poi il punto decimale, o la virgola, come preferite chiamarlo, entra soltanto in gioco moltiplicando per un ordine di grandezza. Quindi per una potenza di 10. E quella non è soggetta a errore. Non so se ho risposto alla domanda. Ok, altre domande? Ok, allora, se non ci sono altre domande, passiamo al problema numero 2, che invece ci fa entrare un pochino di più nella fisica dell'emissione termica delle stelle. Abbiamo a che fare con una stella che dista dal sole 326 anni luce, la cui magnitudine apparente è 3,25 e temperatura della fotosfera 3000 Kelvin. Ci si chiede di trovare la magnitudine assoluta della stella e il suo raggio in unità di raggi solari e in chilometri. Allora, qui dobbiamo lavorare un attimo con le relazioni che conosciamo, che intercorrono fra magnitudini, luminosità, temperatura e raggio della stella. Prima cosa da considerare è la solita formula di Pochson, che ci permette immediatamente di toglierci di torno l'incertezza legata alla distanza, perché finché misuriamo la luminosità di una stella da una distanza variabile, non sappiamo se lei è molto luminosa o poco luminosa, se, insomma, la luminosità è dovuta al fatto che lei sia intrinsecamente molto o poco luminosa, oppure perché sia più o meno distante. Per inciso questo, il fatto di sapere la magnitudine assoluta di una stella sapete che è uno degli strumenti più potenti per misurare la distanza del cosmo, perché sapere quant'è F confrontare la magnitudine apparente con la magnitudine assoluta di una stella diciamo nota perché quella stella è una candela standard, quindi di quel tipo di stelle sappiamo dire esattamente la magnitudine e ci permette di risalire immediatamente alla distanza. Poi qui invece la distanza riconosciamo, prima cosa da fare è convertire i parsechi in anni luce. Io qui l'anni luce li dico con LY oppure AL a seconda dei casi, LY sta per light year, naturalmente. 326 anni luce corrispondono a 100 parsec, naturalmente, e quindi possiamo immediatamente inserire questo risultato nella formula di Poxton e ottenere per la magnitudine assoluta meno 1.75, quindi è una stella, già capiamo, che è parecchio luminosa. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo fare... Sì? Sì. Allora, mi si chiede perché ho ottenuto tre cifre significative nella conversione da parse e cani in luce. Ma, allora, 326 diviso 3,26 fa esattamente 100. Quindi, come... Nella tabella? Ah, sì, ok, non ve lo mette a diverse cifre. Vabbè, però, ugualmente, diciamo, io qui ho 326 anni luce, quindi tengo la rotonda a 100 parsec. Diciamo che 3,26 è sempre un'approssimazione più che sufficiente per quanto riguarda la conversione da parsec anni luce. Allora, quindi, passiamo quindi alla calcola della... rinnovata la magnitudine assoluta della stella, e adesso cosa facciamo? Ci ricordiamo qual è la relazione che intercorre fra magnitudine e luminosità e fra luminosità, raggio della stella e radianza superficiale. Cioè, non vuol dire che, in pratica, la stella emette per ogni metro quadrato della sua fotosfera una certa quantità di energia. Ovviamente, la luminosità totale, cioè quelle radiate in tutte le direzioni, sarà data dalla superficie della sfera, che è 4π, raggio della stella alla seconda, per fs, quindi la radianza, o meglio, come sarebbe meglio, più giusto chiamarla... no, giusto, radianza superficiale, giusto chiamarla radianza. E a questo punto, noi abbiamo bisogno di sapere qual è il collegamento fra la radianza superficiale e la temperatura assoluta, e questa ci viene fornita da un'altra formula molto importante, che è la legge di Stefan Boltzmann, che si dice che questa è uguale alla temperatura assoluta della stella elevata alla quarta potenza, moltiplicata per una costante, che si chiama costante di Stefan Boltzmann, un valore che trovate in tabella. Questa costante vale rigore soltanto per i corpi neri, cioè i corpi che assorbono tutta la radiazione che viene emessa su di essi. Non vale, in generale, per tutti i corpi, non so, per la Terra, per esempio, questa legge è una forte sovrastima, ma per le stelle è sicuramente applicabile. Le stelle sono corpi neri, anche se può sembrare strano dirlo, se le stelle fossero spente, se non mettessero radiazione termica, sarebbero corpi neri quasi perfetti. Quindi vale la legge di Stefan Boltzmann, la possiamo applicare tranquillamente, e ora possiamo mettere questo risultato dentro alla luminosità della stella. E otteniamo questa formula, quindi molto comoda, che ci lega L, R e T. Ma adesso come facciamo a collegarla alla magnitudine assoluta della stella? Allora, chiaramente, dobbiamo ricordarci che non possiamo semplicemente prendere il flusso, quindi la luminosità della stella, e convertirla in magnitudini, perché la scala delle magnitudini è una scala relativa, cioè è una scala nella quale le magnitudini, le luminosità vengono rapportate a una stella, un flusso di una stella di riferimento, e poi si passa a calcolare il logaritmo, si moltiplica per meno 2,5, ottenendo però in questo modo la differenza tra la magnitudine della stella e quella della stella di riferimento. Se la stella di riferimento assumiamo che abbia una magnitudine standard, una magnitudine, diciamo, convenzionale 0, perché la prendiamo come riferimento, allora è abbastanza semplice. Ma come prendiamo come riferimento? Non è che c'è un riferimento assoluto, possiamo prendere qualunque stella come riferimento, linea di principio, una volta si prendeva la stella pega. perché in questo caso la stella principale della costellazione è della Lira, il problema è che la stella vega è variabile, quindi non è un buon riferimento. Non varia di molto, varia di poco, di qualche, pari, decimo di magnitudine, e con una frequenza abbastanza rapida, ma ugualmente si tendono a utilizzarla più come calibratore per la scala delle magnitudini. Allora abbiamo un riferimento invece molto più comodo che, si può dire nell'uscio di casa, che è proprio il nostro Sole. Il nostro Sole, lo sappiamo esattamente qual è la sua magnitudine assoluta, ce l'avete in tabella, conosciamo la sua luminosità, e chiaramente, se non la sappiamo, possiamo calcolarla, e come vedete possiamo collegarla alla luminosità della stella. Ora noi possiamo scrivere quella formula di prima, quella che lega luminosità, il raggio e la temperatura, e possiamo metterla qua dentro, direttamente dentro a questa formula. Vedete che adesso, come potete immaginare, non comincio a fare calcoli numerici, ma inizio a solituire algebricamente. E vedete che in questo modo, uno dei vantaggi della solituzione algebrica è che molto spesso alcune quantità si semplificano, e se semplificano non dovete utilizzare nei conti, non dovete moltiplicare o dividere per dei numeri magari complicati, con potenze di 10 che non vi servono a niente, semplificano e quindi non dovete più considerarle. Può sembrare banale, ma in realtà non sapete quante volte questa cosa non viene fatta. Allora, partiamo quindi dalla formula che ci dice la differenza delle magnitudini assolute fra la stella e il sole, che quindi è data da meno di 2,5 il logaritmo decimale del rapporto delle luminosità. Questo perché? Perché le luminosità? Perché le stiamo considerando alla distanza fissa. Cioè sono prese entrambe alla stessa distanza. Per le magnitudini apparenti sarebbe il flusso con cui vengono osservate le luminosità, ma siccome siamo a distanza fissa possiamo prendere le luminosità totali, quindi integrate in tutte le direzioni. Ora questa formula la invertiamo, la invertiamo per far saltare fuori il rapporto delle luminosità. E con un po' di algebra viene fuori che è 10 per la differenza delle magnitudini assolute diviso 2,5. E a questo punto vedete che però noi possiamo anche riscrivere questo rapporto di luminosità utilizzando le formule che abbiamo visto prima, le formule di Stefan Boltzmann. E come previsto 4π σ si semplificano sopra e sotto e quindi non abbiamo più bisogno di moltiplicare per s. Da queste possiamo ricavarci, invertendo la formula, il rapporto dei raggi, del raggio della stella e del raggio solare. E per ora li lascio così anche perché vedete che ottengo tutto espresso in rapporti fra luminosità stella, luminosità del sole, temperatura della stella e temperatura del sole quindi sto facendo i calcoli utilizzando delle quantità relative che è sicuramente conveniente. In questo caso quindi io posso mettere dentro i valori della temperatura della fotosfera solare che c'è in tabella 3000 Kelvin è stato fornito dal problema sotto la radice ci metto il rapporto fra la luminosità cioè 10 elevato alla differenza di magnitudini assolute fra 2,5 facendo 4 calcoli vedete che mi ritrovo con una luminosità che è 76,8 volte quella del sole notate che in questo caso sto tenendo lo stesso numero di cifre significative di quel 6,58 è il caso che dicevamo prima quindi qui non stiamo facendo somme o differenze delle quantità che entrano nel gioco stiamo facendo una somma algebrica stiamo facendo una potenza l'esponente appare con 3 cifre significative tengo 3 cifre significative anche nel risultato ed è lui quello che determina definitiva la precisione del calcolo quindi tengo appunto 3 cifre in questo modo allora se continuiamo abbiamo ottenuto questo risultato interessante che il raggio delle stelle è 76,8 volte il raggio del sole vedete che non è stato necessario convertire in unità di misura del sistema internazionale non c'è stato alcun bisogno di mettersi a calcolare luminosità in watt metro quadrato cosa che ci avrebbe obbligato poi a lavorare con il valore della costante di Stempan-Boltzman non c'è stato bisogno di fare tutto questo abbiamo fatto lavorato con delle quantità adimensionali e questa cosa è sempre conveniente perché vi ricordo che il rapporto di quantità misurate con la stessa unità di misura non dipende più dal sistema di unità di misura adottato adesso ci si chiede anche qual è il raggio in chilometri vabbè questo è facile basta prendere il raggio solare o si trova in tabella eseguire la moltiplicazione e questo è il risultato quindi la nostra stella è a un raggio di 5,35 per 17 km e questa sarebbe una risoluzione del problema assolutamente impeccabile quindi sicuramente giusta se la faceste in questo modo ma io vi voglio dire qualcosina in più perché bisogna trattare in realtà bisogna trattare il problema in maniera un pochino più attenta gli dico qualcosa che in più rispetto a quello che probabilmente già conoscete è quella che si chiama correzione bolometrica cosa vuol dire la magnitudine che vi è stata fornita il 3,25 in realtà è la magnitudine visuale cioè soltanto la magnitudine che viene osservata dall'occhio umano se non è specificato diversamente questa magnitudine è la magnitudine in banda v dove la banda v è una banda ottenuta la banda passante la banda di colori se volete lunghezze d'onda passante attraverso un opportuno filtro chiamato appunto filtro v ce ne sono diversi che gli astronomi utilizzano è il sistema fotometrico chiamato di johnson e morgan qui ne vedete per esempio tre curve di trasmissione di tre filtri il filtro u che lavora nel ultravioletto il filtro b che lavora soprattutto nel blu e il filtro v che lavora nella banda del visibile di visibilità dell'occhio umano quindi quando il nostro occhio lavora più o meno la sua sensibilità e sovrappone abbastanza a quella della curva che vedete v ora capite che mettere un filtro al vostro telescopio vuol dire scartare tantissime lunghezze d'onda in particolare tutte le lunghezze d'onda che ci sono nel ultravioletto e nell'infrarosso però anche loro contribuiscono all'emissione termica della stella ed è quello e la formula di stefan Boltzman in particolare non si riferisce la sola banda v si riferisce a tutto lo spettro elettromagnetico dalle onde radio passando attraverso le microonde l'infrarosso il visibile ultravioletto gli x e i gamma ora l'emissione di una stella agli estremi dello spettro elettromagnetico è abbastanza bassa quindi per una stella tipo sole normalmente dare la magnitudine v è un'ottima approssimazione per quella che si chiama la magnitudine bolometrica cioè quella che tiene conto di tutte le lunghezze d'onda contenute nello spettro di emissione ed è quella che poi sommate danno la formula di stefan Boltzman la formula di stefan Boltzman in realtà appunto è applicabile rigorosamente soltanto alla magnitudine volometrica quindi quella integrata su tutte le frequenze oppure per le stelle tipo il sole è approssimabile molto bene con la magnitudine visuale ma per stelle diverse questa cosa non funziona più perché voi capite che se noi prendiamo una stella come questa che ha una fotosfera piuttosto fredda circa 3000 kelvin che quindi emette prevalentemente nel rosso ma emetterà non solo nel rosso ma emetterà tantissimo anche nell'infrarosso e noi nella banda V la magnitudine visuale tutta questa emissione nel rosso ce la perdiamo quindi dicendo 3,25 sottostimiamo fortemente la magnitudine della stella e quindi sottostimiamo fortemente anche la sua luminosità allora come si fa a fare la correzione volometrica cioè passare dalle magnitudini visuali alle magnitudini volometriche si fa in questo modo si passa ad utilizzare questa formula qui non vi dico di parlare a memoria naturalmente anche perché ripeto non è tra gli argomenti del sillabo vi sto dicendo delle cose in più in questo momento che però possono servirvi magari in futuro la differenza fra la magnitudine volometrica e la magnitudine visuale è data da questa formula che vedete dipende solo ed unicamente dalla temperatura assoluta questa correzione è sempre negativa ed è importante soltanto per le stelle di classe spettrale tipo O B quindi quelle stelle molto calde che emettono soprattutto nell'ultravioletto oppure le stelle piuttosto freddine quelle che emettono nell'infrarosso se uno prova a fare il calcolo con la temperatura che ci è stata fornita otteniamo una correzione della magnitudine volometrica piuttosto importante 1,70 magnitudini che è una correzione piuttosto grossa guardate che è circa tanto quanto la magnitudine visuale e infatti la magnitudine volometrica vedete che diventa molto più negativa questo ci permette di dare una stima molto più accurata del raggio della stella e in particolare vedete che la stella in realtà emette molto di più e quindi è molto più grande quindi diciamo che se voi risolvete il problema tenendo conto della proiezione volometrica sarebbe sicuramente un passo in più non sarebbe richiesto dal problema perché ripeto appunto questo è un argomento extra però se lo considerate in più è sicuramente un fattore di merito adesso doppiassiamo calcolare il raggio in unità di raggi solari quindi moltiplicando poi il raggio solare otteniamo questo risultato secondo voi in che punto del diagramma HR si colloca questa stella il diagramma di HR ricordo che è il diagramma di Hertz per un Grassell sapete che appunto negli diagramma con Russell c'è la sequenza principale sapete che ci sono le diverse classi di luminosità ma che coraggioso che vuole dirlo si trova nella zona delle giganti rosse stiamo parlando di una stella piuttosto fredda quindi di colore rossastro e soprattutto molto grande anzi per essere esatti questa stella addirittura sarebbe perfino nella zona delle giganti luminose quindi via di mezzo tra i giganti e il super gigante e se questa stella fosse al posto del sole fino a quale orbita planetaria si estenderebbe secondo voi quale sarebbe l'orbita del pianeta che vi sarebbe contenuta volendo potete andare a prendere le tabelle se volete andare a controllare quanto effettivamente sarebbe grande perché dire 168 raggi solari si fa presto a dirlo ma averne un'idea immaginando che le orbite di un certo numero di pianeti vi sarebbero contenute fa tutto l'altro effetto ci sono domande? si si ecco questa è un'ottima osservazione l'avevo accennato prima perché stiamo prendendo le misure a una distanza fissa stiamo facendo riferimento a luminosità a distanza fissa quindi anche se tu potresti prendere i flussi questo vorrebbe dire prendere la luminosità diviso 4 pi greco di alla seconda ma 4 pi greco di alla seconda è lo stesso sia sopra che sotto quindi si cancella quindi con le magnitudini assolute potete fare anche questo lavoro potete prendere il logaritmo del rapporto delle luminosità integrate mentre con le magnitudini apparenti dovete per forza usare il flusso perché potenzialmente le distanze degli sorgenti sono diverse sì ok vi si chiede perché la formula per calcolare il flusso è la costante di Boltzmann per la temperatura assoluta al cubo al cubo aspetta la quarta potenza scusate ecco la quarta potenza beh questo è un risultato se volete fisico è un risultato noto proprio dal sperimentalmente dallo studio dell'irraggiamento dei corpi dei corpi caldi sulla terra e quindi si può proprio fare la misura dell'emissione di un di un corpo nero e ricavare la sua flusso totale dell'energia misurarlo e ottenere che si ottiene questo risultato non è soltanto un risultato sperimentale c'è dietro tantissimo in realtà c'è dietro la formula di emissione del corpo nero che ha dato l'origine una meccanica quantistica con Planck si può ricavare anche per via termodinamica ci sono tantissimi modi in cui si può ricavare quindi è qualcosa che è un risultato che vabbè prendetelo per buono prendetelo per scontato ma è fondato sia sperimentalmente sia che teoricamente altre domande? ci sono altre domande andiamo avanti stiamo al problema numero 3 vediamo se la trovo allora applichiamo lo stesso problema più o meno ad Arturo Alpha Botis la stella più luminosa della costellazione di Bote qui conosciamo la magnitudine visuale che è meno 0,04 la stella più luminosa dell'emisfero boreale ecco in questo caso noi conosciamo ci viene dato il flusso incidente d'Arturo alla sommità dell'atmosfera terrestre quindi togliendo l'assorbimento l'estinzione dovuta all'atmosfera terrestre e ci viene dato questo numero in watt al metro quadrato noi sappiamo la distanza di Arturo dal sole di 36,7 anni luce sappiamo il suo raggio 25,5 raggi solari dobbiamo calcolare la temperatura della sua fotosfera utilizziamo ancora la stessa formula di prima quella che lega all'ognosità di Arturo al suo raggio e alla sua temperatura assoluta e cerchiamo di ragionare con questa noi possiamo prendere questa luminosità totale e dividere per 4 pi greco distanza di Arturo alla seconda immaginate quindi questa luminosità si attribuisce uniformemente su sfere e dimensioni via via crescenti e quindi man mano che ci si allontana dalla stella questa luminosità che la cui somma e la cui integrale la cui totale deve essere sempre lo stesso si deve distribuire su superfici sempre più grandi e quindi decadrà con l'inverso del quadrato della distanza quindi prendiamo questa L la dividiamo per 4 pi greco di A alla seconda e sempre per via algebrica vedete che 4 pi greco e 4 pi greco se ne vanno la sigma in questo caso non se ne andrà e dovremo tenercela per forza però vedete che invertendo la formula riusciamo a ricavare la quarta potenza della temperatura assoluta e da cui ricaviamo estrando la radice quarta otteniamo questo risultato che contiene soltanto quantità note o fornite dal problema oppure presente in tabella e quindi niente qui dobbiamo fare un pochino di calcoli numerici solituendo le quantità conosciute e vedete che in questo modo già ci sono alcune di queste che se ne vanno come quel 10 a meno 8 10 a meno 8 watt al metro quadrato se ne vanno fra loro rimane soltanto un kelvin alla quarta sotto radice quarta quindi otterremo il risultato giusto perché vedete che anche i chilometri e chilometri le lunghezze se ne andranno e quindi otterremo una temperatura in kelvin come desiderato qui abbiamo convertito i rani luce in chilometri anche qui la conversione si trova in tabella abbiamo messo il raggio solare anche questo dato noto dalla tabella e semplificando un attimo le potenze del 10 i chilometri e chilometri se ne vanno restiamo con questo numero sotto radice quarta per kelvin alla quarta e estraendo la radice quarta otteniamo questo risultato 4,18 per 10 alla terza kelvin cioè circa 4200 kelvin diciamo che è un valore ragionevole per la temperatura di una stella un po' più fredda del sole ma noi sappiamo che Arturo è una gigante arancione quindi ci aspettiamo che sia più fredda del sole e che sia anche più grande del sole e da questo quindi questo anche qui il risultato è assolutamente impeccabile da questo punto di vista tranne il fatto che naturalmente abbiamo fatto il calcolo con la magnitudine visuale quindi già stiamo approssimando qualcosa perché in realtà quello LA che vedete è la luminosità volometrica quindi avremmo dovuto mantenere la relazione con la magnitudine visuale è vero che qui in questo problema la magnitudine visuale non veniva utilizzata quindi in realtà non ci sarebbero errori perché in questo caso abbiamo la luminosità abbiamo il flusso quindi integrato su tutte le frequenze e quindi il calcolo funziona perfettamente utilizzando la formula della luminosità volometrica però vedete che è stata specificata la magnitudine visuale non era un dato essenziale per il problema dicevamo anzi a questo livello non tornava minimamente nel calcolo però giusto per curiosità proviamo a vedere che succede se proviamo a ricalcolare la magnitudine della stella utilizzando il risultato che abbiamo ottenuto allora ancora una volta proviamo a calcolarla confrontandoci con la luminosità apparente del sole questo è un di più rispetto al problema mi raccomando il problema andava risolto come l'ho mostrato nel slide precedente andava benissimo se uno adesso per suo interesse vuole provare a fare qualche calcolo in più provare a fare questo calcolo che vi suggerisco quindi confrontiamoci con la magnitudine apparente del sole e la magnitudine e il flusso luminoso del sole come giustamente la vostra compagna faceva notare prima in questo caso siccome lavoriamo a distanze diverse fra Arturo e il sole perché stiamo parlando della distanza dalla terra del sole e di Arturo dobbiamo confrontarci al logaritmo del rapporto dei flussi luminosi e che facciamo? dobbiamo trovare il flusso del sole il flusso quindi in watt al metro quadrato che il sole manda sulla terra possiamo farlo in diversi modi o ci ricordiamo il valore della costante solare oppure se non ce lo ricordiamo uno può provare a ricavarlo quindi ricaviamo il flusso del sole mettiamo dentro i numeri che abbiamo in tabella utilizzando la stessa formula di prima e facendo i conti uno scopre che ottiene 1360 rotondando le unità watt al metro quadrato questo valore si chiama appunto costante solare e corrisponde al valore del flusso luminoso totale per unità di aria al di sopra dell'atmosfera a terra arriva di meno circa 1000 a terra forse anche un po' di meno a seconda della nuvolosità a seconda di quanto viene riflesso nello spazio insomma da mille cose però alla sommità dell'atmosfera questo è il valore giusto adesso va bene adesso conosciamo f del sole conosciamo la magnitudine apparente del sole che è meno 26.7 e facendo i conti otteniamo meno 0.5 noi otteniamo una magnitudine di Arturo che è molto diversa da quella che veniva data nel testo meno 0.04 il motivo sta esattamente nel fatto che abbiamo mv è la magnitudine visuale mentre il flusso che viene dato nel problema quindi quell'f è riferito alla magnitudine volometrica quindi integrata su tutte le lunghezze d'onda e giustamente otteniamo una magnitudine quella che abbiamo ottenuto questa meno 0.5 che è la magnitudine volometrica è numericamente inferiore rispetto a quella visuale come è giusto che sia infatti se proviamo a calcolarci la differenza tra le due magnitudini otteniamo meno 0.46 ma se noi proviamo a prendere la formula che vi ho dato prima sulla magnitudine volometrica quindi sulla correzione volometrica vedete che se andiamo a mettere la temperatura assoluta all'interno di questa formula otteniamo guarda un po' esattamente meno 0.47 quindi vedete che la correzione volometrica è in grado di rendere conto della differenza che c'è fra la magnitudine visuale e la magnitudine volometrica che è associata alla legge di Stefan Boltzmann qualche domanda se non ci sono domande giusto per un quanto è tardi sono già le 7 beh dopo andremo un pochino più rapidi sugli altri problemi vi dico 4 cose su Arturo vi siete mai chiesti perché Arturo si chiama così? vabbè c'è scritto qua significa il guardiano delle orse sembra strano che noi magari conosciamo qualche amico che si chiama Arturo e sembra strano che ci sia una stella che si chiama così come un nome di persone in realtà è proprio così è il contrario il nome di Arturo è un nome greco che tanta gente porta senza neanche sapere cosa vuol dire e casualmente è che il nome di una stella e perché si chiama il guardiano delle orse? ci sono tante ipotesi diverse una di queste è che Arturo è una di quelle stelle con un moto proprio molto elevato è una delle stelle che si muove di diversi secondi d'arco all'anno e se uno va a tracciare dove si trovava Arturo nei secoli passati scopre che era molto più vicino all'orsa maggiore all'orsa minore di quanto non fosse adesso quindi è probabile che in epoca degli astronomi greci forse Iparco lo vedesse molto più vicino alle orse di quanto non sia adesso e quindi forse fu Iparco a dare questo nome stiamo parlando del secondo secolo a.C. se non ricordo male al di là di questo però c'è anche della mitologia associata ad Arturo perché Arturo che è la stella più luminosa della costellazione di Bote nella mitologia è il figlio di Zeus e della ninfa Callisto e la ninfa Callisto fu punita da Giunone per per essersi è fatto la terza incomoda fra lei e Zeus e fu traformata in un'orsa nel frattempo però il figlio Arcade che era nato da Zeus e Callisto cresceva e diventava un cacciatore e andava in giro a cacciare guarda caso orsi così un giorno quando vide sua madre che è trasformata in orsa lui lo riconobbe la madre si alzò in piedi come per abbracciarlo su due zampe come per abbracciarlo come fanno gli orsi e Bote invece pensò che lo volesse attaccare e gli scagliò contro i cani da caccia che infatti sono una costellazione subito vicino a Bote un'altra caratteristica di Arturo è che è una stella importante per la navigazione per i polinesiani perché alle Hawaii culmina lo zenit in quanto la sua declinazione apparente è esattamente uguale alla latitudine delle isole Hawaii quindi i polinesiani le utilizzano per orientarsi quando dovevano navigare in mezzo all'oceano pacifico per sapere per trovare le Hawaii come facevano navigavano verso nord fino a quando non vedevano Arturo passare esattamente allo zenith quindi al punto più alto e poi a questo punto sapevano che erano sul parallelo passante dell'Hawaii e non dovevano fare altro che navigare verso ovest questo appunto la chiamarono la stella della gioia appunto queste insieme con Sirio sono le stelle più importanti che i polinesiani utilizzavano per navigare come dicevamo appunto è una stella molto grande una gigante rossa 25 volte più grande del sole ormai è uscita la sequenza principale e quindi sta avviando verso le fasi più importanti della fase più tardi della sua evoluzione che quindi la porteranno a diventare una nana bianca cosa curiosa è che però Arturo ha esattamente la stessa massa del sole quindi noi guardando Arturo vediamo cosa diventerà il sole fra circa un 4-5 miliardi di anni quando anche il sole esaurito il suo combustibile nucleare al suo interno comincerà la tua transizione che la porterà a diventare una gigante rossa in varianti versi guardando Arturo vediamo appunto il nostro futuro altra caratteristica di Arturo che ruota molto lentamente il nostro sole fa un giro su suo asse in circa un mese Arturo ci mette due anni e il motivo sta nel fatto che Arturo ha perso il suo momento angolare in causa della perdita di vento solare ma soprattutto espandendosi intanto così grande ha aumentato il suo momento d'inerzia a tal punto da rallentare la velocità di rotazione e fino al punto come vi dicevo la sua massa è molto simile a quella del sole quindi Arturo rappresenta un po' un monito di quello che diventerà il sole quando non sarà più in sequenza principale nessuna domanda ok allora passiamo nuovamente a risolvere i nostri problemi ne abbiamo staccato un secondo allora parliamo di Siria invece la stella più luminosa della costellazione delle Cane Maggiore la sua magnitudine apparente è meno 1,1 meno 1,43 conosciamo la sua distanza di 8,58 anni dal sole anche perché l'abbiamo trovato nel problema 1 ci chiediamo trascuriamo gli effetti dovuti all'atmosfera terrestre e se Sirio la mettessimo 10 volte più lontana quale sarebbe la sua magnitudine apparente? il secondo punto del problema ci chiede invece da quale distanza Sirio non sarebbe più visibile occhio nudo dalla Terra cioè in altre parole qual è la distanza alla quale Sirio si troverebbe ad avere una magnitudine apparente chissà di quanto? esatto 6 oppure numericamente maggiore di 6 quindi c'è qualcuno che ha risolto questo problema? sì come è proceduto? sì la magnitudine assoluta assoluta di Sirio vuol dire? ah infatti mi sembrava sembrava che infatti non c'entrasse molto col sole sì ok ok quindi sembra di capire che è preso bravissimi quindi considera se si è ridotta al rapporto dei quadrati delle distanze da 8,58 e 10 volte più grande ok infatti questo è il modo giusto di procedere e cosa hai ottenuto come risultato alla fine? ok va bene allora confrontiamo un attimo con il procedimento che vado a riscrivere adesso non so se avete proceduto in maniera algebrica come farò io oppure per via numerica l'importante è che il risultato sia giusto naturalmente però una cosa che forse avete capito che a noi a noi noi fisici noi astronomi piace fare i calcoli ma ci piace ancora di più non farli quindi se possibile possiamo evitare di farli e di fare magari qualche scamotage per evitarli è molto meglio allora possiamo scrivere due magnitudini apparenti nel caso attuale quindi la prima equazione e la seconda con una distanza 10 volte maggiore quindi in questo caso la magnitudine assoluta è la stessa perché la stella è esattamente la stessa e adesso cosa facciamo? facciamo le differenze fra i due casi e vedete che otteniamo quindi meno 5 e meno 5 si alidono e rimane soltanto la differenza dei logaritmi una differenza dei logaritmi conviene sempre esprimere come differenza come logaritmo di un rapporto perché in questo modo facendo il logaritmo di un rapporto se misurate le distanze con la stessa unità di misura ottenete una quantità adimensionale voi sapete che l'argomento di un logaritmo come l'argomento di un esponenziale di un seno di un coseno di una tangente devono sempre essere adimensionali non potete fare il logaritmo di 5 metri cos'è il logaritmo dei metri non ha senso invece il logaritmo di un rapporto invece questo vi risolve il problema perché il rapporto è di distanze su distanze è adimensionale e quindi il suo risultato è assolutamente non ambiguo come è in questo caso in questo caso vedete che prendete questa frazione e le distanze vi semplificano quindi vi rimane soltanto m1 più 5 logaritmo di 10 e vedete che i conti diventano semplicissimi in questo caso perché l'ogaritmo di 10 è 1 quindi diventa 5 più meno 1,43 più 5 e otteniamo 3,57 che è più o meno il risultato che ha ottenuto la nostra compagna adesso sì e vedete Si capisce cosa vuol dire? Quindi tu dici, se potrei passare dal calcolo del flusso, quindi calcolare il flusso di Sirio, moltiplicarlo per 100, considerato che, anzi, dividendolo per 100, perché è 10 volte più lontano, e poi rifare i procedimenti inverso. Teoricamente sì. Cos'hai ottenuto come risultato? Uguale a sta cosa. Quindi hai fatto i calcoli bene. Però immagino che tu abbia fatto molti più calcoli di me. E, necessariamente hai fatto un po' più di calcoli. Allora, se avessi risolto il problema così, con il risultato giusto, sarebbe andato benissimo. Sicuramente sarebbe considerato valido. Però ho tenuto conto che il tempo è prezioso e non è tantissimo durante la prova. Se è possibile evitare di fare i conti, quindi di fare troppi conti, più conti necessario, è sicuramente conveniente. Otte domande? Allora, passiamo al secondo punto. Il secondo punto, beh, riscriviamo esattamente lo stesso risultato. Quindi due magnitudini nel primo caso, e nel secondo caso ci chiediamo qual è la distanza limite, la quale non vediamo più Sirio. Quindi, questa diventa, D-Lim diventa la nostra incognita. E, beh, possiamo anche qui sottrarre membro-membro le due relazioni, ottenendo esattamente la stessa quantità nella quale compare il rapporto delle distanze sotto logaritmo. Ma, ovviamente, possiamo invertire anche questa formula. Quindi possiamo fare in modo di ricavare D-Lim che viene espressa, quindi, in proporzione a distanza attuale di Sirio, moltiplicata per un esponenziale della differenza delle magnitudini fratto 5. E come facciamo a risolvere? Teniamo conto del fatto che la magnitudine limite, oltre la quale una stella non è più visibile a occhio nudo, è generalmente intorno a 6. Ovviamente in condizioni ottimali, no? Quindi, in particolare, trascurando completamente gli effetti dell'atmosfera terrestre. Se noi andiamo a prendere questi valori e li sostituiamo, otterremo che questa è la distanza alla quale Sirio non sarebbe più visibile a occhio nudo. 263 anni luce. Quindi, possiamo portarla parecchio lontano perché non diventi più, non sia più visibile. Che tradotto in parsec vuol dire 80,6 parsec. Vabbè, questo Giorgio l'ho già detto io. In realtà, il testo specifica di trascurare gli effetti dovuti all'atmosfera perché in realtà l'atmosfera estingue le magnitudini. Fate conto che allo zenit una stella perde circa un quinto di magnitudine e portandosi verso l'orizzonte, l'estinzione aumenta sempre di più con la massa d'aria attraversata, quindi con l'inverso del seno dell'angolo zenitale, mi pare. Quindi, l'inverso del coseno dell'angolo zenitale. Formula che si trova comunque dentro alle dispense, quindi non devo fidarvi di me quando ve la dico. Comunque, tutto questo per dire che, insomma, l'atmosfera tende ad attenuare il flusso delle stelle e, in particolare, quando si è vicini all'orizzonte, l'attenuazione diventa molto importante, però nel fatto che, come sapete, tutto ciò che è vicino all'orizzonte tende ad arrossarsi. Questo è un effetto dell'estinzione dell'atmosfera e, in parte, dovuta anche alla diffusione delle polveri sospese nell'atmosfera. Vabbè, ci sono domande? Ah, forse sono andato un pochino più in fretta nella precedente. Adesso che ci torno. Non mi si chiede come sia arrivata questa formula qui. Allora, siamo partiti dalle formula delle magnitudini, la formula di Poxton, nella quale compare la magnitudine attuale di Sirio, M1, e la magnitudine limite, oltre la quale non si vede più occhio nudo. Queste sono espresse entrambe in funzione della magnitudine assoluta che è la stessa in entrambi i casi. E differiscono per la distanza della stella, quindi la distanza attuale della stella di S e la distanza di limite, oltre la quale Sirio non si vede più. Sottraiamo membro a membro, in questo modo il meno 5 se ne va, e compare il rapporto delle distanze sotto logaritmo. Invertiamo la formula, quindi portandovi la M1, facciamo diviso 5, l'inverso del logaritmo è il desponenziale di 10, il tutto moltiplicato per di S. E in questione vi voglio fare un po' di inversioni, di formule e di combinazioni algebriche. Chiaro adesso? Benissimo. Altre domande? Ci sono altre domande? Passiamo al problema numero 5. Qui abbiamo a che fare con un ammasso stellare, quindi con tante stelle ammassate in un angolo solido molto piccolo, altamente ammassato, che non riusciamo a risolverlo, quindi non riusciamo a misurare la luminosità delle singole stelle che lo compongono, come nel caso appunto di questo ammasso, che è nella piccola nube di Magellano, osservato dall'Apple Space Telescope, in questo caso è stato risolto, cioè riusciamo a vedere ciascuna delle singole componenti, ma soltanto perché lo stiamo osservando con Hubble. Se noi non lo osserviamo con Hubble, ma lo osserviamo, mettiamo ad occhio, magari ci appare come un singolo oggetto, una luminosità diffusa, però non riusciamo a distinguere le componenti individuali che lo compongono. E questo ammasso stellare è fatto di, si assume che sia fatto da un certo numero di stelle, tutto uguale al Sole, quindi preso il Sole come stella campione, rappresentativa della luminosità di questo ammasso. È un'approssimazione che si tende a fare, si fa l'ambanza spesso, quando è stato di fare calcoli rapidi. Conosciamo la distanza dell'ammasso e sappiamo la sua magnitudine integrata, cioè la magnitudine della somma dei flussi luminosi provenienti da tutte le stelle insieme. Dobbiamo calcolare il numero di stelle n che compongono l'ammasso. Questo è appunto un... è un semplificato, è un modo... illustra un modo che effettivamente gli astronomi usano per stimare quante stelle ci sono in un ammasso, sapendo quant'è la luminosità totale che emette la sua distanza, quindi sapendo la sua magnitudine integrata, e sotto l'ipotesi, insomma, ragionevole ma approssimativa, che... approssimata che le stelle siano tutto uguali al Sole. Qualcuno l'ha fatto? Sì, perfetto, c'è chi l'ha fatto. Che risultato ottieni? Brava, perfetto, è praticamente giusto. Come hai fatto a risolverlo? Ok, quindi hai preso la differenza di magnitudine apparenti fra la stella e il Sole, ok. Ok, quindi poi hai preso la formula che hai trovato nella dispensa per la magnitudine totale. giusto? Ok, perfetto, va molto bene. Adesso vi faccio vedere come l'ho schematizzato io, e appunto più o meno segue questo filone, questo filologico, magari organizzato in maniera leggermente diversa, ma la sostanza è la stessa. Quindi per ognuna di queste stelle che compone l'ammasso scriviamo la formula di Poxon. Sappiamo che queste hanno tutta una luminosità assoluta, una magnitudine assoluta sono uguale al Sole, quindi una magnitudine assoluta uguale a quella del Sole. Quindi possiamo scriverla in questa forma qui. Adesso, noi sappiamo che la luminosità totale è pari all'uminosità delle stelle, ovvero quella del Sole, moltiplicata per n, perché le luminosità si sommano, quindi se avete un numero di stelle, potete moltiplicare la luminosità della singola stella per il numero di stelle. attenzione che le magnitudini non si comportano così, perché sono quantità logaritmiche. Non potete mai prendere la somma di due, di fare la somma di due magnitudini per ottenere la magnitudine totale delle stelle. E vi ottenete un risultato assolutamente sbagliato, anche perché sommando le magnitudini il numero aumenta, e quindi otterreste paradossalmente che due stelle insieme sono meno luminose di ciascuna delle due componenti. Adesso cosa facciamo? Calcoliamo il logaritmo di n. Quindi il logaritmo di n è un logaritmo del rapporto fra le luminosità. E sapete che, procedendo per via algebrica, utilizziamo la formula, quindi la definizione di magnitudine apparente, che quindi il logaritmo del rapporto delle luminosità per meno 2,5 fa la differenza di magnitudini, e noi invece prendiamo la differenza di magnitudini diviso meno 2,5 e otteniamo il logaritmo del rapporto. E adesso, quindi, al posto della magnitudine della singola stelle, ci sostituiamo la formula di Poxton, quindi magnitudine totale meno la magnitudine assoluta del Sole, meno 5 logaritmo di d più 5 fratto meno 2,5, questa è la formula che risolve. Il nostro problema ci restituisce il logaritmo decimale di n. Quindi, anche qui, è questione di sostituire un pochino i numeri, fare un po' di calcoli facendo tutto quanto con tre cifre significative, otteniamo 2,17, questo è il logaritmo di n, per ottenere n non dobbiamo fare altro che fare 10 elevato a 2,17 uguale a 148, quindi un notato assolutamente in linea con quello ottenuto dalla vostra compagna di prima, che prima è 150, ecco, chiaramente, 150 è assolutamente un'approssimazione accettabile. suppongo che quindi il problema sia stato risolto nello stesso modo, come vedete io tendo sempre a posticipare il più possibile i calcoli numerici, se posso lavorare con le quantità letterali lo faccio il più lungo possibile. Ci sono commenti? Andiamo avanti allora. Ah, ecco, piccola domanda. Secondo voi è un ammasso aperto o un ammasso globulare? Conoscete la differenza, no? Qualcuno? Sì? Ah, ok, perfetto, non conosce la differenza. Allora, gli ammassi aperti sono quegli ammassi di stelle che fondamentalmente come le pleiadi, non so se avete presente, oppure l'ammasso del presepe o anche chi per sé, sono quei quei gruppi di stelle che in realtà nascono dalla, sono tutte le stelle che sono nate dalla stessa nube molecolare che è in lato origine a ciascuna di loro. Quindi sono tante stelle sorelle che se volete sono nate insieme dalla stessa, dal collasso della medesima nube molecolare che si è andata poi frazionando e ha formato tante stelle diverse. Gli ammassi aperti appunto sono, tipicamente noi vediamo le stelle più luminose, più blu, più giovani, come le stelle delle pleiadi che hanno questo bel colore azzurrino, ma ce ne sono molte altre anche di massa più piccola che hanno colori diversi. Allora, gli ammassi aperti possono contare fino a centinaia o migliaia di stelle, l'ordine di grandezza è quello, le stelle quando nascono insieme nascono a gruppi di massimo decine di migliaia. Gli ammassi globulari sono oggetti completamente diversi, sono invece delle specie di satelliti delle nostre, delle galassie e quindi sono, hanno una morfologia completamente diversa, sono come delle specie di sfere, di stelle nel quale più concentrata al centro, molto concentrata al centro e chiedendono la cui densità tende a diminuire verso i bordi. Le dimensioni tipiche di un ammasso globulare sono diverse da quelle di un ammasso aperto, un ammasso aperto ha dimensioni intorno a una decina di anni luce, un ammasso globulare intorno al centinaio di anni luce. I ammassi globulari contengono molte più stelle, contengono intorno alle 100.000 fino al mezzo milione di stelle ciascuno, se avete presente, l'ammasso globulare di Ercole è molto bello, M13, se avete voglia di dare un'occhiata un attimo in rete vedrete immagini che mettono a confronto gli ammassi aperti con gli ammassi globulari, quindi questo è sicuramente un ammasso aperto, appunto del tipo che vi ho fatto vedere nella foto, che vi ho mostrato. Ok, va bene. Ah, naturalmente anche negli ammassi globulari le stelle sono andate tutte insieme, ma si tratta di stelle molto più vecchie, sono stelle nate quantomeno intorno a 10 miliardi di anni fa. C'è molto interesse appunto sullo studio degli ammassi aperti e degli ammassi globulari perché sono stelle nate tutte allo stesso momento più o meno, sono stelle che sono, hanno avuto tutta la stessa data di nascita e quindi vedere come sono evolute nel tempo, vedere la loro composizione, quali stelle per esempio ci sono ancora, quali invece sono morte, quali sono scomparse, ci permette di capire molto sull'evoluzione stellare, ci permette di capire che le stelle più luminose e di massa più grande negli ammassi globulari sono praticamente scomparse e questo ci fa capire che queste stelle più massicce luminose vivono di meno delle altre. Va bene, sì, sì, ah, mi si chiede se le ammassi corrispondono alle galassie, no, sono molto più piccoli, molto, molto, molto più piccoli, anzi, non sono proprio degli oggetti completamente diversi, le ammassi stellari si trovano all'interno delle galassie, sono componenti delle galassie, le ammassi aperte sono dentro i bracci a spirale tipicamente, si contengono molte più stelle e contengono moltissimi, molti più ammassi, quando tu osservi per esempio un'immagine di una galassia a spirale noterai che i bracci a spirale vengono tracciati molto bene da quelle zone in cui le stelle si stanno formando, regioni chiamate H2, cioè le zone in cui l'idrogeno è ionizzato dalla radiazione emessa dalle stelle che si stanno formando, un po' come per esempio non so, la nebulosa di Orione M42 che è questa nebulosità illuminata dalle stelle che si sono formate o si stanno formando al suo interno quindi è una tipica zona in cui le stelle stanno nascendo in questo momento e si dispongono proprio lungo i bracci a spirale delle galassie a spirale molte di questi anubi nelle quali che ha dato origine appunto da massi di stelle proprio formano questi raggruppamenti se vuoi di colore blu intenso che proprio costellano si può dire i bracci a spirale e ne descrivono la forma poi questi ammassi in realtà non rimangono insieme per sempre tendono a disperdersi tendono a frammentarsi nel corso di alcune centinaia di milioni di anni man mano che la galassia ruota e diciamo le forze di marea esercitate dalla galassia tendono a disgregarle quindi gli ammassi inizialmente gli ammassi aperti tendono a inizialmente sono belli compatti e poi tendono a disperdersi e a sparpagliare le loro stelle un po' in giro per la galassia i massi globulari invece non si trovano dentro le galassie ma fuori dalle galassie e tipicamente li orbitano intorno attraversando anche il piano della galassia ma anche le galassie ellittiche hanno ammassi globulari quindi tratta di oggetti proprio diversi dalle galassie altre domande? se non procediamo passiamo al problema più complicato sicuramente il problema su altair il problema 6 ci diceva altair ha una sua parallasse che vedete scritta lì un moto proprio quindi un spostamento apparente nel cielo in angoli si misura chiaramente in angoli all'anno quindi circa mezzo secondo d'arco all'anno vedete qui il solito discorso il moto proprio è maggiore dell'angolo di parallasse quasi sempre quindi questo è il motivo per cui è difficile misurare la parallasse o meglio va sottratto il moto proprio poi c'è una velocità la stella altair ha una velocità radiale di avvicinamento verso i noi vedete che la velocità radiale cioè la velocità diretta lungo la linea di vista fra altair e noi è negativa questo vuol dire che è in avvicinamento di 26,0 km al secondo e ha una magnitudine visuale di 0,89 adesso il problema ci chiede diverse cose la prima che ci chiede tra quanto tempo si troverà alla minima distanza dal sole ovviamente ipotizzando che continua a muoversi in questo modo quale sarà il valore di tali distanze e quale sarà la magnitudine visuale di altair in quel punto in questo caso bisogna fare prima cosa un bel disegno e qui come vedete ho dato sfogo alle mie capacità artistiche però questo disegno rappresenta abbastanza bene quello che sta facendo altair in questo momento in questo momento sta occupando la posizione a posizione a la sua distanza dal sole a s quindi è d di minuscolo e altair ha due componenti della velocità la sua velocità è diretta obliquamente rispetto a noi non è diretta né lungo la linea di vista né perpendicolarmente alla linea di vista e questo lo sappiamo perché chiama velocità radiae in avvicinamento ce lo dice il testo ma lei ha anche un moto proprio quindi ha una componente di moto tangenziale ortogonale alla linea di vista quella che si chiama velocità tangenziale e questa velocità è dovuta al fatto che altair e il sole stanno muovendo rispetto al centro della galassia ma non interessa soltanto il moto rispetto al sole quindi il moto osservato dal nostro sistema di riferimento rispetto al quale quindi vediamo altair muoversi quindi abbiamo una componente di velocità radiale una componente di velocità tangenziale il loro il modulo della velocità si ottiene come con il teorema di Pitagora quindi combinando facendo il quadrato della velocità tangenziale della velocità radiale sommandoli sotto radice e si ottiene quindi se volete l'ipotenusa del triangolo ABC la prima cosa da fare è calcolare la distanza la distanza attuale e questo è facile perché abbiamo la parallasse quindi non abbiamo fra l'altro che fare il reciproco e otteniamo questo risultato che la tiore in questo momento dista 5,05 parsec ma adesso cosa possiamo fare dobbiamo lavorare un pochino di geometria e cominciamo a partire a valutare la velocità tangenziale quindi la velocità angolare concentra nel sole che è esattamente il moto proprio mu allora calcoliamo la velocità tangenziale come dobbiamo fare dobbiamo prendere sapete no la velocità tangenziale uguale al raggio del moto circolare moltiplicato per la velocità angolare v uguale r per omega come si esprime di solito in fisica e in questo caso lo esprimiamo invece come mu per d dobbiamo solo fare questo prodotto per ricavare il primo termine di velocità tangenziale per semplificare i conti tenete conto di questa relazione un parsec per un arco secondo uguale una unità astronomica proprio questa cosa deriva dalla definizione stessa di parsec allora mettiamo i numeri dentro otteniamo questo risultato e vabbè eseguire il prodotto di questi numeri è banale il problema è lavorare con le unità di misura perché vedete che l'arc l'arco secondo l'anno e il parsec come si regolano fra di loro allora possiamo procedere in diversi modi ve ne mostro due il primo è notare che parsec per arco secondi fa una unità astronomica quindi questa è la velocità tangenziale di Altair di 3,32 unità astronomiche all'anno non si muove neanche velocissimo in fondo vuol dire che in un anno fa tre volte qualcosa la distanza fra terra e sole ma dobbiamo andare avanti perché non possiamo esprimere questa velocità in questa unità di misura strana perché vedete che la velocità radiale ci è data in km al secondo dobbiamo convertire in km al secondo e allora che facciamo trasformiamo le unità astronomiche in km dato presente in tabella il numero di secondi in un anno lo calcoliamo facilmente moltiplicando il numero di giorni nell'anno per la durata del giorno di secondi giorno solare naturalmente poi l'anno prossima lezione vedremo la differenza tra giorno solare e giorno siderale ci è un paio di semplificazioni da fare quindi togliamo un paio di zeri e quel 10 alla sesta diventa 10 alla quarta qui otteniamo finalmente i nostri km al secondo e otteniamo il risultato che la velocità tangenziale di Altair è 15,8 km al secondo questo è il primo passaggio notate che qui non sto facendo calcoli algebrici perché? perché l'algebra qui è semplice qui lavoriamo con una moltiplicazione di due numeri il grosso del lavoro è tratticare con le unità di misura vi suggerisco un altro modo per fare i calcoli che secondo me è un pochino più creativo non so quale dei due sia migliore possiamo notare una cosa che il parsec è uguale a 3,26 anni luce e quindi al posto di parsec ci metto dentro 3,26 ho già fatto la moltiplicazione fra i due fattori numerici ma un anno luce che cos'è? è la distanza percorsa dalla luce in un anno quindi è c la velocità della luce nel vuoto dato presente in tabella moltiplicata per un anno l'anno e l'anno si semplificano e guarda un po' io ho già automaticamente la velocità della luce spessa in km al secondo quindi non devo neanche preoccuparmi di andare a convertire le velocità c'è solo il problema che quegli arco secondi lì non si sono cancellati con niente ma voi sapete che in realtà gli arco secondi i secondi d'arco sono unità di misura dimensionali e quindi tutto quello che devo fare per fare in modo di trasformarle in unità di misura per evitare di scusatemi gli arco secondi non sono dimensionali però si convertono in radianti che sono dimensionali quindi l'arco secondo un arco secondo è uguale a un radiante 2,06 per 10 alla 5 arco secondi e quindi mi compare quel fattore al denominatore che è esattamente il numero di secondi d'arco contenuti in un radiante adesso con 10 alla quinta e 10 alla quinta magia si semplificano quindi non devo neanche preoccuparmi dei fattori numerici e ottengo esattamente lo stesso risultato quindi scegliete voi quale modo per fare i conti e lavorare con la unità di misura vi torna più consono adesso che abbiamo trovato la velocità tangenziale e sappiamo quella radiale possiamo calcolare il modulo della velocità applicando il teorema di Pitagora al triangolo ABC sapete che il modulo della velocità si calcola così se conoscete le componenti dirette su assi ortogonali e vabbè i conti sono facili e si ottiene 30,4 km al secondo questa è la velocità di Altair rispetto a noi andiamo avanti facciamo un'osservazione importante i triangoli ABC e i triangoli AOS sono simili sono due triangoli rettangoli aventi un angolo in comune l'angolo con vertice in A e quindi i triangoli sono simili avendo due coppie di lati di angoli congruenti e possiamo scrivere quindi come in tutti i triangoli simili dalle belle proporzioni la proporzione fra cosa? fra il vettore velocità radiale fratto il modulo della velocità e il rapporto AO su AS stessa cosa possiamo fare per la velocità tangenziale la velocità tangenziale che quindi sta in rapporto a V come OS questa volta sta AS notate che AS AO e OS sono due quantità importanti perché AO è la distanza che deve percorrere l'altare per arrivare al punto di minima distanza e poi c'è OS che invece è la distanza minima che raggiungerà quindi sono entrambe quantità legate a qualcosa che il problema ci sta chiedendo possiamo finalmente calcolare il tempo che ci vuole percorrere la distanza AO quindi la distanza al punto di minima distanza dal sole dividendo quindi AO facendo proprio distanza fratto velocità possiamo un attimo calcolare AO in che modo utilizzando la proporzione di sopra quindi utilizziamo la proporzione prima proporzione che abbiamo scritto ricaviamo AO e otteniamo quindi questo risultato modulo della velocità radiale per distanza fratto V alla seconda e queste sono tutte quantità che o conoscevamo dal testo oppure che abbiamo appena ricavato e quindi possiamo utilizzare i numeri effettuendo con le unità di misura anche qui abbiamo messo dentro la velocità in km al secondo e la distanza in parsec dobbiamo trattare un po' con le unità di misura già un paio di km al secondo se ne vanno ci rimane quindi i parsec da trattare parsec uguale 3,26 anni luce decido di procedere così ci sono anche altri modi per semplificare le misure l'importante è tenere presente che il parsec è un'unità di misura di lunghezza quindi è giusto siamo sulla buona strada perché facendo le semplificazioni otterremo finalmente dei un tempo cioè dei secondi qui ho un pochino lavorato con moltiplicato le quantità numeriche per semplificare le espressioni adesso mi ricordo che un anno luce appunto è 3 per 10 alla quinta km al secondo per un anno semplifichiamo i km al secondo e i km al secondo e così otteniamo questo risultato cioè il tempo necessario per arrivare alla minima distanza dal sole è 139.000 anni domande? sì sì il tempo necessario per arrivare alla minima distanza dal sole quindi il tempo necessario per percorrere la distanza a o alla velocità b ok sì sì la proporzione iniziale l'abbiamo ricavata dalla similitudine dei triangoli a b c e a o s dove a o s è un triangolo formato dal tire sole e la posizione di minimo avvicinamento a b c invece è il triangolo fra formato dal vettore velocità e le sue componenti lungo la direzione radiale tangenziale non so se ho risposto alla domanda può essere un po' insolito magari lavorare con i vettori però in questo caso qui bisogna farlo quindi rispolverate un attimo le vostre nozioni sul calcolo vettoriale che possono tornare utili secondo punto quale sarà il valore di tale distanza cioè ci chiediamo quant'è di min cioè o s anche in questo caso possiamo utilizzare la similitudine scrivendo la proporzione vediamo che dobbiamo fare la proporzione quindi di min sta a s come vt la componente tangenziale sta a v e quindi otteniamo questo risultato quindi vt fratto v per d facciamo un po' di sostituzioni chilometri al secondo e chilometri al secondo se ne vanno quindi in questo caso è ancora più semplice perché il risultato ce lo otteniamo direttamente in parsec quindi otteniamo che tra 139.000 anni Altair raggiungerà la minima distanza dal sole e questa distanza sarà 2,62 parsec e infine vabbè potremmo calcolare quante sarà la magnitudine visuale di Altair in quel punto Altair sarà più vicina quindi sarà più luminosa e niente possiamo scrivere la formula di Pogson nei due casi nel caso del punto O del punto A la magnitudine assoluta supponiamo che sia rimasta la stessa quindi che Altair non sia intrinsecamente aumentata o diminuita di luminosità quindi il suo aumento di luminosità sia dovuto unicamente al fatto che ci arriva più vicina e facendo una sottrazione fra le due formule otteniamo quindi nella differenza fra la magnitudine attuale e il punto A e la magnitudine che avrà nel punto O otteniamo la differenza dei logaritmi delle distanze ricordatevi che se trovate una differenza ai logaritmi cercate di ridurla al logaritmo del rapporto fra le distanze perché in questo caso in questo caso vi diventa tutto adimensionale sicuramente diventa tutto più facile da calcolare ottenete quindi logaritmo di 0,52 facendo i conti ottenete che Altair sarà molto più luminosa di adesso come atteso adesso ha una magnitudine visuale di circa 0,9 del punto di minima distanza avrà una magnitudine che sarà addirittura diventata negativa quindi meno 0,53 domande? la parte più difficile sicuramente era la prima era impostare tutta la costruzione geometrica per cercare di trovare le dimensioni dei lati di questo triangolo oltre che passare dal calcolo delle velocità se non ci sono domande passiamo al problema numero 7 questo era abbastanza semplice in realtà si riponeva il problema di una binaria spettroscopica binaria spettroscopica vuol dire che le sue componenti non possono essere risolte cioè non possono essere separate all'interno neanche di un telescopio non potete vedere le due componenti della stella non so una stella albireo che è beta del cigno a occhio vi appare come una stella sola se ne puntate un telescopio anche non tanto potente riuscite a capire chiaramente a vedere che si tratta di un sistema binario e questo tipo di sistemi binari vengono chiamati visuali una binaria spettroscopica non invece non riuscite a separare due componenti visibilmente ma riuscite a capire che le stelle sono due osservando lo spettro emesso dalle due stelle insieme ma l'analisi dello spettro mostra che in realtà le stelle sono due perché vediamo le stelle muoversi una verso noi e una invece lontano da noi quindi riusciamo a misurare l'effetto doppler delle due stelle nel loro moto orbitale ma diciamo quel problema vi chiede un'altra cosa molto più semplice vi chiede di gli dice la prima stella ha una luminosità costante di 2,75 magnitudini mentre la stella variabile è una la seconda è una stella variabile la magnitudine cosa fa? va al minimo a 4,15 e la sua ampiezza di variazione è di una magnitudine allora qui bisogna ricordarsi una cosa che minimo di luminosità vuol dire massima magnitudine quindi se lei ha al minimo 4,15 la sua ampiezza di variazione è una magnitudine al massimo di luminosità sarà 4,15 meno 1 bisogna sottrarre la magnitudine perché la magnitudine deve numericamente diminuire se vogliamo che la stella aumenti in luminosità una cosa importante a ricordare è che le magnitudini di stelle non si sommano mai se fate la somma delle magnitudini che vi vengono date ottenete un errore per il semplice motivo che vi aspettate che due stelle insieme siano più luminose delle singole componenti quindi la magnitudine combinata delle due deve darvi un numero più piccolo di quelle da cui siete partiti se invece fate la somma delle magnitudini così sommandole semplicemente otterrete un numero più grande che quindi otterrete il risultato paradossale che due stelle insieme sono meno luminose di ciascuna delle due componenti si sommano invece le intensità relative potete utilizzare questa formula che trovate anche nelle dispense in diversi formati ma sostanzialmente il discorso è prendete le magnitudini fatele diviso meno 2,5 e levate alla decima il 10 e levate 10 a questo risultato che ottenete questo vi dà un fattore che è proporzionale alle intensità del flusso della stella a questo punto le intensità le potete sommare tranquillamente le sommate e adesso tornate a calcolare il logaritmo facendo calcolare la magnitudine con logaritmo per meno 2,5 se facciamo così allora non dobbiamo fare altro che soltuire i numeri quindi abbiamo una stella che va da un minimo di 4,15 quindi mettiamo nel primo caso 2,75 nel secondo 4,15 che è la luminosità minima quindi valore numericamente massimo della magnitudine e qui otteniamo il risultato che è meno 2,49 dunque qui mi sa che ho io non sono sicuro di aver fatto i conti giusti scusatemi dovrei avere sbagliato qualcosa basta che venga addirittura un numero negativo ah ok infatti scusatemi ho sbagliato un segno in questa espressione infatti mi sembrava strano mi è rimasto un meno corrego subito scusatemi mi sembrava eccessivo diciamo che 2 stella 2,75 sommata a un'altra 4,15 dessero addirittura un numero negativo chiaramente non è così quindi facendo i conti giusti non come ho fatto io ottenete che la magnitudine totale delle due stelle insieme da 2,49 quando la prima stella è al minimo invece quando la seconda stella è al massimo quindi la sua magnitudine va a 3,15 quindi vedete numericamente diminuita e quindi è più luminosa si ottiene che le due stelle insieme la binaria ha una magnitudine totale di 2,18 questo è effettivamente va nella direzione giusta se fosse stato quel segno o meno infatti sarebbe stato qualcosa di totalmente paradossale ci sono domande? allora si trova anche nelle dispense questo risultato quindi nel caso puoi ritrovarlo lì in ogni caso tu devi pensare che quel 10 elevato alla meno m1 fra tutto 2,5 è l'inverso della definizione di magnitudine quindi è l'inverso del logaritmo quando fai il logaritmo decimale vai a trovare l'esponente del flusso qui stai facendo il contrario stai cercando il flusso quindi devi fare l'esponenziale in base 10 della magnitudine c'è di mezzo quel fattore meno 2,5 quindi devi portarlo al denominatore se vuoi fare un po' di pratica ti prendi la definizione di magnitudine e poi inverti la formula domanda domanda avverteva per chi non ha sentito su da dove viene quel fattore 10 e la meno a me 1 fatto 2,5 domande? andiamo avanti parliamo di telescopi quindi cazzo è tardi avremo un pochino più tardi mi scuso allora abbiamo un telescopio con apertura a 2 metri ed è posto in una località dove il seeing medio è di 1 secondo d'arco il seeing vi ricordo che è l'insieme dei fattori che determinano la turbolenza atmosferica fa sì che l'immagine di una stella in un telescopio non sia fissa ma tenda a come dire a tremolare esattamente l'effetto che vedete quando osservate una stella vedete che le stelle diciamo poeticamente luccicano in realtà è proprio quello è un effetto della turbolenza dell'atmosfera che sposta l'immagine della stella che passa attraverso strati di aria in movimento e quindi la stella sembra muoversi sembra proprio come vibrare in un certo senso allora osserviamo alla lunghezza d'onda i 5500 angstrom che si trova nel visibile naturalmente si trova più o meno nel verde quindi più o meno nel picco di sensibilità dell'occhio umano quali di questi oggetti possiamo risolvere primo una macchia solare con diametro pari a quello della terra secondo un cratere lunare con diametro di 500 metri allora cominciamo a capire che cosa determina il potere risolutivo di un telescopio cioè la capacità di separare dei punti luminosi che il telescopio sta osservando quando sono troppo vicini appaieranno come un punto solo quando cominciano a separarsi invece cominceranno ad essere distinti come due punti separati questa cosa si chiama limite di risoluzione di un telescopio quindi la più piccola separazione angolare rilevabile per un'ottica priva di difetti naturalmente perché se l'ottica è deformata l'ottica è alterata o distorta ovviamente vedrà molto meno chiaramente del limite di risoluzione raggiungibile teoricamente perché il limite di risoluzione di un telescopio è qualcosa di inarrivabile di insuperabile se volete in quanto è legato alla natura a un duratore della luce legato al fatto che la luce che incide su un telescopio anche grande come questo qua che vedete del nostro telescopio Rutz che si trova a Merate in qualche modo la luce di fronte d'onda della luce viene spezzato perturbato dalla presenza dello specchio del telescopio e quando voi andate a focalizzare le vostre immagini sul piano focale non otterrete mai un punto ma otterrete sempre un dischetto un dischetto che avrà una dimensione caratteristica data da questa formula che si ottiene prendendo la lunghezza d'onda diviso il diametro dello specchio moltiplicato per 1,22 quest'angolo e l'angolo è il limite di risoluzione di un telescopio un telescopio può essere migliorato quanto volete ma meglio di così non potete fare a meno di non aumentare ovviamente la dimensione del telescopio questo spiega perché si fanno telescopi sempre più grandi facilmente quelli spaziali oppure di osservare la lunghezza d'onda più piccole quindi il limite di risoluzione del telescopio è molto importante perché ci permette di capire qual è il massimo potere risolutivo a cui possiamo spingerci oltre a quel valore è inutile cercare di migliorare la forma dello specchio possiamo calcolarla abbiamo la lunghezza d'onda espressa in angstrom dobbiamo convertire in metri un angstrom nel 10 almeno 10 metri il diametro è espresso in 2 metri quindi otteniamo il risultato in radianti che ci conviene convertire in secondi d'arco vi ricordo la conversione tra radianti e secondi d'arco che appunto è 2,06 per 10 al 5 otteniamo questo risultato che insomma ci dice che un telescopio di 2 metri riesce riuscirebbe teoricamente a risolvere fino a 7 centesimi in secondi d'arco che insomma non è affatto male come come proprietà di risoluzione ma c'è un problema c'è un problema che stiamo osservando a terra e a terra la luce che arriva dalle stelle deve attraversare l'atmosfera e l'atmosfera è turbolenta e sappiamo anche che il seeing cioè la turbolenza atmosferica che sposta l'immagine della stella è di circa un secondo d'arco e questo è un fattore sicuramente dominante sulla limite di risoluzione dovuto alla diffrazione della luce quindi il seeing vedete che è sempre dell'ordine di un secondo d'arco in condizioni super eccezionali tipo antartide si riesce a scendere forse a 0.4 ma già osservare con un seeing di un arco secondo è già una condizione abbastanza eccezionale bisogna un seeing che si può ottenere tipicamente negli osservatori ad alta quota negli osservatori in alta montagna come sulle Ande dove appunto si vanno a mettere i telescopi più costosi e più belli e più grandi quindi assumiamo quindi un arco secondo come seeing e chiaramente questo diventa il nostro il nostro limite il nostro potere risolutivo sicuramente dominante sul limite di diffrazione allora noi dobbiamo confrontare che cosa le dimensioni angolari dell'oggetto che vogliamo andare a osservare con la risoluzione angolare del telescopio che diciamo in questo caso è limitata dal seeing calcoliamo quindi l'angolo sotto cui viene visto una macchia solare con un diametro pari a due volte il raggio della terra che quindi va a prendere il raggio della terra per due diviso la distanza tra terra e sole e poi diciamo per scrupolo facciamo l'arco tangente di questo numero nella funzione inversa della tangente diciamo che in questo caso avremo un angolo piccolo quindi la tangente diventerà fondamentalmente superflua visto che la tangente e l'arco tangente si approssimano bene con il loro argomento se è espresso in radianti in questo caso quindi dobbiamo esprimere entrambe il diametro e la distanza in chilometri semplifichiamo i chilometri e teniamo quindi questa misura in radianti che non è fondamentale fare la funzione arco tangente ma è importante invece convertirla in arco secondi quindi tenete presente che la conversione fra radianti e arco secondi otteniamo che il diametro angolare della terra è di 17,59 secondi d'arco questo è molto maggiore di un arco secondo quindi è molto maggiore del valore del sing perciò la macchia solare riusciamo a risolverla chiaramente col telescopio quindi la risposta alla prima domanda è sì possiamo sicuramente risolverlo l'immagine non sarà chiarissima però la macchia e invece un cratere di 500 metri sulla luna ammettiamolo all'equatore per evitare che venga visto di sbieco bisogna specificarlo perché altrimenti se lo vedete al polo per esempio vedete l'Italio e quindi non vedete 500 metri ma vedete 0 come diametro almeno in una direzione e l'altro chiaramente continuate a vederlo invece appunto nell'altra direzione vedete appunto nel caso del cratere otteniamo quindi la il diametro del cratere che è già stato specificato diviso la distanza dal cratere che per essere un po' pignoli è la distanza tra la terra e la luna meno il raggio terrestre perché noi non osserviamo dal centro della terra ma osserviamo dalla superficie quindi siamo un pochettino più vicini perciò facciamo i conti otteniamo quindi questa misura in radianti che è molto minore di quella precedente se convertiamo in secondi d'arco otterremo che cosa una misura sotto il secondo d'arco questo vuol dire che noi non riusciremo mai a vedere il cratere di 500 metri sulla luna nemmeno con un telescopio a 2 metri ma non tanto per il fatto che il telescopio non sia abbastanza grande o abbastanza potente se fosse solo per il limite di diffrazione il limite di risoluzione del telescopio ce la farebbe perché otterremo un valore che è inferiore a questo ottenevamo qualcosa tipo 0,067 mi sembra quindi un valore sicuramente inferiore a questi 0,273 ma per il fatto che il telescopio il potere di risoluzione del telescopio non è dominato dalla diffrazione della luce ma dal sing beh questo fa sì che il nostro cratere non possa essere visto perché la sua immagine sarebbe completamente distorta dalla turbolenza atmosferica quindi nessun telescopio da terra per quanto grande sia potrà mai riuscire a risolvere questo cratere con una singola eccezione ci sono i telescopi chiamati adattivi telescopi in cui lo specchio non è non ha una forma fissa ma una forma deformabile e la forma dello specchio è deformabile in tempo reale seconda della turbolenza atmosferica è possibile ci sono dei metodi che consentono di determinare esattamente qual è lo stato della turbolenza dell'atmosfera e di correggere in tempo reale la forma dello specchio in modo tale da fornire un'immagine nitida e compensare completamente il sing negli ultimi anni ci sono stati fatti dei passi gigante veramente nel campo dell'ottica adattiva adesso si riescono a cancellare dagli disturbi dell'atmosfera dalle immagini astronomiche da terra a patto di possedere un sistema adattivo l'altro modo ovviamente è quello di andare nello spazio e di togliersi completamente di mezzo l'atmosfera e le sue turbolenze in modo tale di avere delle immagini assolutamente nitide questo è il motivo per cui nello spazio ha senso mandare oggetti telescopi sempre più grandi quindi passare dall'Hubble al James Webb perché questo permette un enorme guadagno in termini non soltanto di sensibilità quindi luce raccolta dal telescopio ma anche in termini di risoluzione angolare sono domande? qualcuno conosceva già il tema del seeing della risoluzione angolare comunque nella dispensa è spiegato quindi se sfogliate le dispensa relative trovate tutte le informazioni che vi servono piccolo spunto di riflessione si sente spesso dire che per provare gli sbarchi degli astronauti sulla luna sapete che alcuni non ci credono che siano mai avvenuti basterebbe puntare un telescopio per osservare le tracce allora uno potrebbe dire vabbè puntiamo su un telescopio uno di quelli più grandi che abbiamo e andiamo a vedere se troviamo non so il rover lunare oppure le orme la città di astronauti perché non lo facciamo? Per il motivo che abbiamo visto prima perché finché siamo a terra è assolutamente inutile finché siamo a terra noi riusciamo non riusciamo a risolvere un oggetto neanche di 500 metri sulla luna figuratevi un oggetto di pochi metri come la base dell'em che è rimasto sulla luna ma in realtà nemmeno Hubble ce la fa perché comunque anche le dimensioni di un oggetto sulla luna in pochi metri si aggirano intorno al millesimo di secondo d'arco e non sicuramente che è molto più piccolo della risoluzione angolare di Hubble stesso quindi Hubble non riuscirebbe mai a vedere quello che c'è sulla luna lasciato dagli astronauti ma sonde che invece orbitano intorno alla luna e quindi sono molto più vicine ci riescono perfettamente come in queste immagini del lunar reconnaissance orbiter che vi fa vedere proprio quello che gli astronauti hanno lasciato sulla luna perfino le loro orme le loro impronte non le singole impronte ma il percorso lasciato dalle loro passeggiate lunari allora problema numero 9 cerco di andare un pochino più veloce perché effettivamente è tardi abbiamo un telescopio riflettore Kassegren con apertura di 15 cm il rapporto d'apertura f decimi noi vogliamo fare un'osservazione visuale quindi con l'occhio e quindi dobbiamo equipaggiare questo telescopio di oculari quindi gli strumenti che trasformino l'immagine nel piano focale e la ingrandiscono tutti loro hanno un campo di vista di 60 gradi e lungheze focali di 4 mm 10 mm 20 mm calcolare la focale del telescopio quanti ingrandimenti e che campo di vista quello che si indica con FOV feed of view otterremmo utilizzando i tre oculari e con quale oculare potremmo osservare l'intero disco lunare per un attimo di ripasso cosa sono la terminologia dei telescopi f grande è la focale del telescopio che fondamentalmente coincide con la focale dello specchio primario f decimi è o f number indicato anche come f cancelletto apertura numerica che cos'è è il rapporto fra l'apertura del telescopio con il diametro dello specchio primario e la sua focale questa è una costante del sistema ottico quindi è una caratteristica proprio del sistema del telescopio quello che invece non è una caratteristica del telescopio è invece la focale dell'oculare perché noi l'oculare possiamo cambiarlo e a seconda dell'oculare che prendiamo cambierà l'ingrandimento angolare cioè un oggetto piccolo angolarmente piccolo nel cielo potrà sembrare più o meno grande questo è un aspetto importante specialmente quando si osservano oggetti estesi come i pianeti in cui bisogna un pochino bisogna ingrandire l'immagine per poterne apprezzare i particolari della superficie non so gli anelli di Saturno per esempio o le nuvi di Giove come procediamo dobbiamo trovare la focale del telescopio e questo ce lo dice l'apertura numerica dobbiamo prendere il diametro dello specchio e moltiplicarla per 10 volte questo ci dà la focale del telescopio 150 cm secondo punto invece è l'ingrandimento l'ingrandimento si ottiene semplicemente come rapporto tra la focale del telescopio e la focale dell'oculare nel primo caso prendendo l'oculare da 4 mm troviamo un ingrandimento esagerato di 375 quindi un oggetto appare a 375 volte più grande di quanto non appaia effettivamente nel cielo ma in queste condizioni non conviene osservare perché un ingrandimento così forte restituirà sempre una scarsa quantità di immagine tenete sempre presente che quando l'ingrandimento supera il diametro dello specchio primario in millimetri in questo caso di 150 che lo stiamo prendendo un ingrandimento che è circa il doppio osserviamo male quindi c'è una cattiva qualità di immagine l'immagine appare distorta e soprattutto il sing diventa un problema diventa disturbare molto il secondo oculare va già meglio vedete che otteniamo un ingrandimento di 150 quindi è l'ingrandimento massimo che conviene utilizzare con uno specchio di queste dimensioni e insomma è già un ingrandimento abbastanza un po' forte bisognerebbe stare un po' sotto questo valore infatti il migliore è l'oculare 3 l'oculare 3 ci dà un ingrandimento di 75 che è un ingrandimento adatto per questo tipo di specchio tra l'altro utilizzare ingrandimenti troppo forti non conviene anche da un altro punto di vista perché quando si usano degli ingrandimenti molto forti il campo di vista appare come dire espanso troppo l'ingrandimento forte ci impedisce di vedere il campo dell'oggetto quindi ingrandire troppo per esempio la luna farà sì che vedremo magari un dettaglio di qualche cratere male come dicevamo prima ma non vedremo tutta la luna quindi perdere il campo di vista vuol dire perdere proprio la possibilità di vedere l'insieme degli oggetti che ci sono nel cielo e quindi vedere per esempio misurare distanze per esempio oppure avere una visione di insieme di un campo stellare il campo di vista del telescopio ovviamente viene anche lui ingrandito dall'oculare quindi se noi sappiamo che il nostro oculare ha un campo di vista fissato di 60 gradi ovviamente questo risulterà dall'ingrandimento del campo di vista del telescopio se il sistema è adattato bene è stato pensato bene quindi il campo di vista del telescopio sarà dato dal campo di vista dell'oculare diviso l'ingrandimento quindi questa relazione ci permette di trovare qual è il campo di vista effettivo del telescopio nei tre casi per i tre ingrandimenti adottati questo campo di vista va confrontato col diametro angolare della luna perché il problema ci chiede quale oculare ci permette di osservare l'intero disco lunare quindi mezzo grado il diametro angolare della luna vediamo quali sono i campi di vista dei tre oculari nel primo caso otteniamo un campo di vista scusami il campo di vista che si ottiene usando l'oculare numero uno è di 0,16 gradi che è molto più piccolo del diametro angolare della luna il secondo invece ci dà un valore leggermente inferiore 0,4 ancora non ci siamo quindi decisamente i primi due oculari non vanno bene per l'osservazione che vogliamo fare quello giusto è il terzo il terzo ci dà un campo di vista di 0,8 gradi che è più grande della luna quindi osservando con questo oculare sembra la scelta migliore perché ci avremo la visione completa della luna e soprattutto saremo anche nelle condizioni migliori di qualità di immagine tra quelli che abbiamo scelto ci sono domande? sì beh questa è una cosa che o sapete perché ve la ricordate oppure puoi ricavarla dalle tabelle facendo appunto il diametro della luna diviso la distanza della luna magari ricordati che il diametro angolare della luna è mezzo grado come quello del sole perché sapete che durante dei crisi di sole la luna copre circa esattamente il diametro del sole più o meno a seconda di che sia in apogeo o in perigeo però casualmente in questo periodo della storia in questo periodo dell'evoluzione del sistema terra luna il diametro angolare della luna è esattamente circa esattamente uguale a quello del sole del mezzo grado domande siamo al problema numero 10 parliamo di una nebulosa planetaria sapete che una nebulosa planetaria è quello che resta dopo la morte le fasi finali dell'evoluzione di una stella tipo sole o comunque fino a due masse solari quindi una stella che diventa una gigante rossa e poi disperde i suoi stati esterni nello spazio lasciando al centro il nucleo che invece sapete è destinato ad essere una nana bianca è pur quasi il destino che attende il sole o stelle appena più pesanti del sole e queste nebulose formano esprandono i loro gusci nello spazio continuando a risplendere perché diciamo illuminati o da stelle vicine oppure dalla radiazione proveniente ancora dalla nana bianca che comunque continua a mettere luce oppure attraverso altri processi che comunque non vi sto a accennare le ho chiamate planetarie perché hanno questo aspetto così circolare quindi diciamo appaiono un po' come una specie di guscio e noi guardandolo vediamo soprattutto materiale ai bordi che quindi appare più lungo la linea di vista c'è più materiale ai bordi e quindi noi vediamo soprattutto una maggiore densità all'esterno dici che la nebulosa planetaria si espande in modo isotropo cioè quindi in tutte le direzioni con la stessa velocità questa è un'approssimazione un po' forte perché sappiamo che molte nebulose planetà in realtà non si espandono in modo isotropo ma diciamo che questa è un'ipotesi che suggerisce il problema e quindi la prendiamo per buona la velocità di espansione sono 17 km al secondo ora questa nebulosa è stata osservata dal 72 al 2017 e si è visto che le sue dimensioni angolari sono aumentate da 34,0 secondi d'arco a 40,0 secondi d'arco il problema ci chiede calcolare la distanza della nebulosa e il suo diametro nel febbraio 2017 in km e unità astronomiche quindi passare da un'osservazione di misure angolari a una misura di distanze e di dimensioni lineari questo è un metodo che fra l'altro si usa veramente per andare a misurare la distanza di alcune nebulose planetarie le più vicine l'informazione che è cruciale è la velocità noi sappiamo che la velocità con cui si stanno espalendo questi gusci che si stanno allontanando quindi dal nucleo centrale del nucleo della nana bianca centrale è 17 km al secondo e lo sappiamo dall'effetto Doppler dallo spostamento Doppler delle righe spettrali emesse da questa nebulosa e come procediamo? allora procediamo per via geometrica ancora una volta noi costruiamo un disegno di questo tipo i gusci sono delle stere che come vedete nel 2017 sono più grandi di quelle che erano nel 72 e quindi noi vediamo il diametro della nebulosa più piccolo vediamo più grande adesso di quanto non fosse nel 72 la velocità che cos'è? la velocità è quella dei gusci che si avvicinano verso di noi quindi sarà data la differenza tra il raggio nuovo e il raggio vecchio diviso il tempo che è trascorso fra le due osservazioni questa cosa ci dirà quando tempo ci ha messo questi gusci di gas per correre la distanza fra la sfera azzurra se volete la sfera rossa quindi teniamo conto del fatto che il raggio però è legato alla distanza ed è legato alle dimensioni angolari se provate a guardare questi triangoli che si ottengono dalla costruzione vedete che il raggio dei gusci è dato dalla distanza moltiplicata per il seno dell'angolo sotto cui viene visto nei due anni rispettivi adesso qui avanza facile raccogliere il fattore d fratto t e invertendo la formula ricaviamo che d è uguale a v per t quindi la velocità degli strati della nebulosa planetaria diviso la differenza fra i seni degli angoli di vista nei due casi e adesso beh in realtà la funzione del seno non è importante perché gli angoli sono piccoli volendo possiamo anche approssimare gli angoli con i loro argomenti pur di convertirli in radianti naturalmente il tempo appunto che sono 45 anni moltiplicata per 365 giorni ogni giorno contiene 86.400 secondi facendo tutti i nostri conti otteniamo quindi vedete che la distanza percorsa la distanza della la distanza della della nebulosa è 87,5 anni luce scusatemi questo fattore qui non c'entra niente è rimasto qui per sbaglio per passare quindi alla la cosa interessante è che noi siamo abbiamo fatto questa trasformazione abbiamo fatto questo passaggio ah ok perfetto si abbiamo fatto la conversione da 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 trasformato il gli angoli appunto facendone il seno otteniamo questo nuovo valore qua a denominatore e otteniamo quindi una distanza in 86,5 anni luce tenendo conto della conversione da chilometri a anni luce che è anche questo fattore di conversione che non è fornito in tabella ok ho fatto un po' di confusione con le slide ho fatto un po' di confusione con le animazioni delle slide il prossimo passaggio poi è fare c'è rimasto questo fattore che non doveva esserci il prossimo passaggio appunto è fare la conversione da anni luce a parsec tenendo conto che un parsec è 3,26 anni luce qui facendo l'equivalenza ottenete la distanza in anni luce a parsec adesso ci chiede il calcolo del diametro della nebulosa nel 2017 non dobbiamo fare altro che prendere due volte la distanza moltiplicata per il seno dell'angolo sotto delle dimensioni angolari del raggio angolare della nebulosa e è sufficiente appunto anche qui mettere dentro i numeri in questa relazione qui abbiamo la distanza in parsec il seno dell'angolo che è spesso in secondi d'arco quindi piccolo possiamo tranquillamente approssimare il seno dell'angolo col suo argomento e adesso ci ricordiamo una cosa che il parsec moltiplicato per l'arco secondo è uguale all'unità astronomica quindi è sufficiente prendere parsec e arco secondi moltiplicarli tra loro otteniamo automaticamente l'unità astronomica facendo i conti otteniamo che le dimensioni della della nebulosa sono 2140 unità astronomiche e c'è bisogno di fare particolari conversioni in delle unità di misura e vabbè poi si può convertire sempre in chilometri tenendo conto del fatto che l'unità astronomica sono 150 milioni di chilometri facendo i conti sottiene questo risultato finale domande? ok passiamo all'ultimo problema questo problema riguardava il redshift redshift cosmologico in particolare di un quasar un quasar che cos'è? è un oggetto posto a grandissime distanze distanze di miliardi di anni luce da noi sono oggetti di cui non sappiamo ancora molto sappiamo che si tratta con ogni probabilità del nucleo di alcune galassie galassie a distanza di appunto miliardi di anni luce che si sono stanno ancora formando perché noi le vediamo talmente lontane che le vediamo in realtà a distanza di in un'epoca in un'epoca nella quale l'universo si stava ancora reionizzando cioè nel momento in cui l'universo stava era uscito dal diventato trasparente nel momento in cui gli atomi si erano ricombinati con i loro elettroni circa 380 mila anni dopo il big bang ma poi l'accensione delle prime stelle delle prime galassie ha cominciato a ionizzare il gas l'idrogeno in particolare separando gli elettroni dei loro atomi i quasar proprio sono tipici di questo periodo e si trovano infatti a redshift molto grandi a redshift che si trovano a redshift di 5 o anche di più in particolare ci sono dei redshift che si trovano dei quasar che si trovano a distanza intorno a 7 fino a qualche anno fa un redshift di circa 7 l'avevamo trovato noi all'osservatorio di Brera infatti avevamo fatto questa scoperta all'epoca era l'oggetto più distante del cosmo chiaramente poi se ne sono scoperti di altri ancora più distanti come questo che è un redshift ancora più elevato 7.54 tutto questo è per dire che il redshift deriva dal fatto che questa sorgente si sta allontanando da noi quindi è in recessione dovuta al fatto che l'universo si sta espandendo si sta espandendo lo sappiamo anche con in modo accelerato la cosa importante è che il quasar ha delle belle righe di emissione che tipica appunto degli elementi che le compongono quella che viene osservata a riposo nel sistema del laboratorio è 3000 angstrom ma se noi lo osserviamo nel quasar osserviamo che non è più 3000 angstrom ma si è spostata a 15000 angstrom quindi è aumentata la sua lunghezza d'onda di ben 5 volte questo è dovuto alla recessione cosmologica del redshift del quasar il quasar insieme con tutto l'universo che si espande si sta allontanando da noi più lontano guardiamo e più il redshift aumenta quindi maggiore la velocità con il quale si sta allontanando il nostro quasar e il problema ci chiede quant'è la velocità di recessione del quasar quanto velocemente si allontana da noi e qual è la sua distanza e per passare dalla velocità alla distanza alla distanza bisogna utilizzare la legge di Hubble legge di Hubble che ci dice che la velocità di recessione di un oggetto da noi è proporzionale alla sua distanza da noi la costante di proporzionalità si chiama costante di Hubble e vi viene dato il suo valore questo è un valore possibile ci sono diversi valori della costante di Hubble alcuni che vengono dallo studio della radiazione cosmica di fondo altri invece che derivano dal studio dell'espansione dell'universo quindi osservando supernovae a distanze molto grandi però il problema vi fornisce questo valore qui e questo è quello che adottiamo il redshift che cos'è? è dato dalla differenza l'aumento se volete di lunghezza d'onda quindi lunghezza d'onda osservata meno la lunghezza d'onda nel sistema di riferimento in cui vedete la sorgente a riposo diviso la lunghezza d'onda diciamo a riposo stessa chiaramente se la lunghezza d'onda osservata è uguale a quella nel sistema di riferimento del laboratorio z è zero e quindi vuol dire che siete fermi rispetto all'osservatore questa redshift può essere collegato alla velocità radiale in allontanamento soltanto al termine di velocità radiale quindi lungo la linea di vista siamo in allontanamento questo termine è positivo e percò z positivo vuol dire che lambda osservata è maggiore di lambda zero ora c'è questo risultato importante che trovate anche questo nelle dispense in cui il rapporto tra la lunghezza osservata e la lunghezza d'onda nel sistema del laboratorio è dato da questa formula che è una formula relativistica cioè una formula che discende dalla teoria della relatività come capite dal fatto che compare quel fattore radice di 1 meno b alla seconda franto c alla seconda che è un fattore tipico degli effetti relativistici non so se li avete studiati oppure no credo di sì dovreste averli fatti già in terza noi possiamo riscrivere questa relazione in un altro modo anche questo è scritto nelle dispense come la radice di 1 più beta fratto 1 meno beta dove beta non è altro che il rapporto tra la velocità dell'oggetto emittente rispetto a noi osservatori fratto la velocità della luce nel vuoto quindi un modo diverso di riarangiare questa formula forse è più conveniente perché compare direttamente il rapporto adimensionale fra la velocità e la velocità della luce vedete che se z è molto minore di 1 quindi è molto piccolo allora beta è molto minore di 1 è molto quindi perché quel rapporto 1 più beta diviso 1 meno beta è molto vicino ad 1 quindi lambda osservato è circa uguale a lambda 0 in queste condizioni possiamo fare un'approssimazione di che z è circa uguale a beta quindi il valore di z per piccoli valori della velocità ci restituisce immediatamente la frazione della velocità rispetto a quella della luce ma non è il nostro caso perché noi abbiamo una un reshift di ben 4 vedete che il rapporto tra lunghezza d'onda osservata e il sistema di riferimento del laboratorio a meno 1 fa 4 quindi abbiamo che la lunghezza d'onda viene stirata se volete di 5 volte rispetto a quella che conosciamo già e quindi bisogna utilizzare la formula completa relativistica bisogna utilizzare la formula che trovate qui quella con la radice di 1 più beta fratto 1 meno beta il nostro scopo è trovare V per trovare V tutto quello che dobbiamo fare è prendere la formula e invertirla invertirla scusate non V beta volevo dire e invertirla per invertirla leviamo al quadrato entrambi i membri moltiplichiamo entrambi i membri per 1 meno beta rimane 1 più beta dall'altra parte facciamo un pochino di passaggi algebrici per isolare beta e otteniamo questo risultato questo fa sì che noi possiamo adesso mettere direttamente dentro il rapporto tra la lunghezza d'onda osservata e la lunghezza d'onda diciamo misurata nel laboratorio e otteniamo 5 alla seconda meno 1 fratto 5 alla seconda più 1 che ci dà questo risultato 0,923 risultato quindi che il nostro quasar si sta allontanando da noi al 92,3% della velocità della luce quindi parecchio ve lontano sta andando parecchio veloce come tipico appunto di sorgenti che hanno redshift così elevati noi riusciamo a osservare sorgenti con redshift fino a 11 o 12 addirittura con oggetti che si sta scoprendo negli ultimi anni che sono in studio per cercare di capire che cosa sono vogliamo calcolare la velocità e quindi non facciamo altro che moltiplicare beta per c la velocità della luce e otteniamo questo risultato quindi molto vicino alla velocità della luce nel vuoto ma una volta che abbiamo fatto questo noi dobbiamo trovare la distanza e per trovare la distanza dobbiamo utilizzare la legge di Hubble cioè la legge che sarà trovata da questi due grandi scienziati rispettivamente vedete Edwin Hubble quello con la pipa grande astronomo che vide nel 1929 per la prima volta la recessione delle galassie da noi quindi lo spostamento verso il rosso da noi in misura proporzionale alla distanza da noi cosa che dimostra l'espansione del cosmo e tra l'altro lui inizialmente aveva cominciato a farlo avvocato e poi si era messo a farlo astronomo in un'epoca in cui si cambiava mestiere con una certa facilità come del resto in realtà un altro il personaggio che vedete a destra che era George Lemaitre lui era un sacerdote belga che aveva la passione per l'astrofisica e fu lui in realtà a scoprire l'espansione dell'universo molto prima di quanto non osservasse Hubble quindi Hubble ha fatto la scoperta dell'espansione dell'universo ma in realtà lui ha scoperto qualcosa che già ci si attendeva perché Don Lemaitre se volete è riuscito a risolvere l'equazione di Einstein viene a prevedere l'espansione dell'universo per la prima volta nella storia quindi noi chiamiamo legge di Hubble dovremmo chiamare la legge di Hubble Lemaitre e si scrive in questo modo la velocità di recessione di un oggetto di una galassia da noi è data da H0 la costante di Hubble per la distanza noi dobbiamo trovare la distanza ricaviamo T e quindi non dobbiamo fare altro che prendere la velocità che abbiamo trovato diviso la distanza che la costante di Hubble che è espressa già in km al secondo su megaparsec quindi facendo la divisione otteniamo direttamente la distanza che è di 4,13 gigaparsec e questo risponde all'ultima domanda ci sono domande? ok ci sono domande perché siamo rimasti un po' in pochi purtroppo io ti date un po' più in lungo rispetto a quello che prevedevo quindi niente se non ci sono domande vi saluto concludiamo qui e scrivetemi pure se qualcosa non vi ha convinto la prossima lezione riguarderà le coordinate astronomiche la misura del tempo ci vediamo venerdì prossimo cercherò di stare nei tempi questa volta dalle 6 alle 8 stesso link che abbiamo usato oggi e vi manderò sicuramente in serata i problemi da risolvere per la prossima lezione sì ok mi si chiede una domanda molto difficile mi si chiede se con grandi valori del redshift è possibile superare la velocità della luce e la risposta è sì nel senso che quella formula che vedete qui non si può più utilizzare nel senso che la formula del redshift anche in forma relativistica è un'interpretazione dell'espansione dell'universo nel senso che è un modo in cui noi cerchiamo di spiegare l'allontanamento interpretiamo l'espansione dello spazio dello spazio dovuta proprio all'espansione dell'universo che è un fatto appunto che sappiamo che esiste lo interpretiamo come un allontanamento della sorgente e quindi applichiamo la formula dell'effetto doppler relativistico ottenendo quindi questo risultato però in realtà hai ragione in realtà allontanandoci abbastanza è possibile anche superare la velocità della luce perché è vero che nulla nell'universo si può muovere nello spazio più velocemente della luce però lo spazio stesso non ha limitazioni lo spazio si può espandere alla velocità che vuole questo naturalmente comporta che se noi andiamo a cercare di osservare le regioni delle galassie che si allontanano da noi più velocemente della luce non possiamo osservarle perché diciamo la luce è troppo lenta rispetto alla velocità di allontanamento della sorgente questo vuol dire che ci sono delle regioni di spazio che purtroppo per noi sono inaccessibili che non riusciremo mai a vedere una volta si poteva sperare beh ma l'universo rallenterà fino agli anni 90 si pensava che una delle possibilità fosse che la gravità avrebbe fatto rallentare l'espansione dell'universo e non dico che poi l'universo sarebbe collassato in un punto alla fine ma che comunque l'universo progressivamente avrebbe quanto meno rallentato il suo movimento allora se l'universo rallenta il nostro orizzonte cosmologico si aumenta perché man mano che il tempo passa possiamo raggiungere osservare luce da oggetti sempre più lontani e quindi alla fine riusciremo a vedere sempre parti maggiori del nostro universo ma se l'universo sta accelerando invece questo non succederà succederà proprio il contrario succederà che il nostro orizzonte cosmologico si aumenterà ma l'universo espandendo si uscirà dall'orizzonte cosmologico e quindi incredibilmente nonostante il nostro orizzonte si allontani l'universo sfuggirà completamente alla lunga dalla nostra vista l'ho fatta un po' lunga spero di averti risposto mi si chiede se appunto in seguito all'espansione dell'universo accelerata non sarà più possibile misurare il redshift è vero sarà così infatti qualcuno osservava che questo è un momento eccezionale per fare astrofisica perché in un remoto futuro non sarà più possibile non sarà più possibile fare osservare dedurre i fondamenti sperimentali che ci portano a fare la cosmologia moderna tanto per dire la recessione di tutte le galassie ci impedirà proprio di osservare l'universo su vasta scala dovremo una visione molto parziale molto limitata soltanto dell'universo locale che nel frattempo si sarà espanso a dismisura secondariamente anche un altro aspetto importante della cosmologia che è la radiazione cosmica di fondo sai che tutto l'universo è pervaso da una radiazione a 3 kelvin di temperatura bene man mano che l'universo si espande questa radiazione si raffredda scende sempre di più in temperatura e quindi supponi se l'universo diventerà un miliardo di volte più grandi cosa che avverrà in un futuro molto remoto ma non remotissimo la temperatura di fondo del fondo cosmico dell'universo si scenderà a 3 miliardesimi di kelvin chi li misura quelli non c'è più grado neanche di rilevare la radiazione cosmica di fondo che sai che è stata una delle prove fondamentali della cosmologia moderna tanto per dire ha fornito la prova sperimentale più solida della teoria del Big Bang si dimmi no ipotetici nel senso che certo non si possono misurare non si possono misurare e infatti del resto questa formula non ti può restituire valori maggiori di C per qualunque sia il valore che tu metti a redshift in realtà otterrai valori di beta sempre più vicini ad uno e quindi i valori della velocità di recessione sempre più vicini a C ma non potrai superarla ma questo dipende dal fatto che noi appunto stiamo approssimando l'espansione dell'universo che stiamo studiando con uno strumento semplificato come l'effetto Doppler per cui questa formula è utile intanto che ci limitiamo a velocità subluminali quindi sotto la velocità della luce per velocità superluminali chiaramente non possiamo più applicarla ma del resto non possiamo neanche osservare un oggetto che si allontana da noi più velocemente di C mi fa piacere dire che qualcuno è rimasto fino alla fine quindi è ancora interessato va bene d'accordo se non ci sono altre domande concludiamo la lezione e vi ringrazio di aver partecipato e vi siete stati attenti fino adesso e niente ci vediamo benedì prossimo con i problemi che vi manderò a breve e vi ringrazio